La riunione di oggi che doveva essere una convention nata all'inizio dell'anno con l'intenzione di mettere insieme delle persone che parlassero di quello che si poteva fare nell'ambito della medicina della longevità e quindi degli amici legati da conoscenze, affetti, lavori eccetera, è diventata poi una cosa più grande. Dico spesso che mi è scoppiata in mano onestamente anche perché da gennaio fino ad adesso l'interesse è sempre e quindi si è trasformato in un congresso. Abbiamo due giorni in cui si alternano in presenza e online una settantina di relazioni circa con una quarantina di sessioni che all'inizio erano solamente sessioni generiche. E abbiamo avuto il sold out da subito perché comunque io avevo scelto una location che doveva essere per alcune persone invitate e poi fare una serata. Questo è un buon segnale, d'altra parte è stata anche una bella fatica ma per me è stato importante perché comunque devo già, come si dice no, non è l'importante la fine del viaggio ma è importante il viaggio e con chi lo fai perché quando finisce il viaggio nessuno lo sa. Però almeno le persone che ti porti vicino, io devo dire già subito che in questo percorso ho incontrato tante persone che mi hanno aiutato e che mi sono state vicine con le quali ho contribuito a creare, spero, una relazione non solo fiduciaria ma anche di amicizia. Quindi sono stato molto fortunato e questa è stata una cosa che voglio dire subito. Anche perché cominciamo con l'introduzione al convegno con una di queste fortune aver conosciuto delle persone che hanno fatto qualcosa di bello per noi e per l'associazione tutta. L'associazione, non ve l'ho detto, è nata quattro anni fa prima del covid, poi si è fermata e praticamente si è affacciata nell'ambito delle società scientifiche insomma praticamente quest'anno. Partiamo subito con questi amici con un aspetto che dalla situazione generale torna al particolare. O meglio, una delle mission anche di questa associazione è far capire che noi abbiamo la possibilità di migliorare la nostra condizione anche interferendo attraverso i nostri comportamenti sul nostro codice genetico. Uno degli aspetti di cui si parlerà molto sarà quello dell'epigenetica e questo introduce un aspetto fondamentale, ovvero che noi siamo come una sorta di orchestra che diciamo lavora perfettamente ogni cellula, ogni strumento, ogni tessuto lavorano perfettamente quando noi siamo giovani e progressivamente nel tempo le note che ognuno di noi produce e quello che avviene nel nostro corpo si modifica e questa sinfonia cambia con l'età, con l'invecchiamento e quello che produce una cellula epatica comincia ad assomigliare di più ad una cellula del fibroblasto o viceversa. Ci sono cambiamenti quindi che sono sostanziali e che sono quelli di cui parleremo oggi. A questo proposito due persone ci parleranno di come la musica e la musica delle cellule sia importante non solo per questo tuffo all'interno del nostro corpo di cui parleremo più avanti, un tuffo genetico, un tuffo molecolare, ma anche per altri aspetti non solo di tipo ludico ma aspetti di tipo terapeutico. Quindi abbiamo con noi il professor Marco Maria Tosolini che purtroppo non è potuto essere qui ma è in diretta con noi che ci parlerà delle cellule, i tessuti, il linguaggio acustico, una nuova frontiera nell'armonia corporea e successivamente abbiamo il creatore dell'inno per la nostra associazione, il Longevity Team che si chiama L'armonia della vita che ci farà sentire e quindi uno dei grandi incontri che ho avuto in questo periodo e che ci commenterà anche questa sua produzione. Prego al professor Tosolini. Grazie al dottor Vettorello, mi sentite, se mi date un feedback, se mi sentite mi vedete. Ovviamente, benissimo, saluto tutti i convenuti e mi dispiace che non sono lì ma fra mezz'ora ci sarà qui dove sono il conservatorio Tartini Trieste un seminario molto collegato a un ciclo di seminari che ho organizzato che si chiama Orfeo e Psiche, il cui punto d'arrivo è proprio l'argomento che cercherò di sintetizzare estremamente in questi 9 minuti e 50 secondi perché i 10 secondi li ho già usati per parlare. Io sono un docente di storia della musica, un musicologo, un ricercatore, un musicista e ho avuto l'immensa fortuna di incontrare sulla mia strada diversi medici molto molto ipocratei e molto dediti anche a una visione della medicina di tipo, si dice, più che olistico io direi transculturale e nel segno di quello che è in realtà la storia della grande medicina. E vi ricordo anche che pochi si ricordano che i nostri antenati greci antichi ebbero una certa metrodora, cioè una dottoressa, un medico, quindi anche non è solo per fare note sul femminile ma per spiegare quanto forse 2.500 anni fa ci fossero delle aperture mentali che noi dobbiamo assolutamente riattivare e rilanciare. La mia fortuna è stata quella di provenire da esperienze musicali, prima da autodidatta, di avere a che fare con i suoni del rock e voi direte che c'entra. Ma i suoni della musica elettroacustica, non elettronica, elettroacustica, sono dei suoni molto particolari dove addirittura un suono, quello della chitarra distorta, nasce da un errore, dalla saturazione di suono di una valvola. Ma questo solo per spiegare che il livello di attenzione uditiva ci è stato praticamente tolto progressivamente con un uso massivo di musica di arredo, da bar e via dicendo e paradossalmente come l'informazione più ce n'è, meno è veritiera, meno è controllabile, più suoni ci sono nel nostro sound landscape quotidiano, più perdiamo le soglie di profondità del dito e a questo si può rispondere solo con un'attività di silenzio, di meditazione e via dicendo. Nel 2017 ho incontrato quasi per caso un grandissimo cardiologo, biologo molecolare che il 24 maggio prossimo otterrà un seminario al Conservatorio Tartini, dalle 11 alle 15, che è praticamente lo scopritore della sonocitologia, cioè di una disciplina che lui coltiva da 20 anni, è ordinario di biologia molecolare all'Università Alma Mater di Bologna, il soprannome che gli è stato dato negli ultimi 25-30 anni è Il Matto e per 14 anni ha operato all'interno di centri di laboratori di ricerca pura degli Stati Uniti. Avendo una moglie violinista e avendo lui una particolare grande sensibilità si è posto la domanda, cominciando a studiare di molto giovane, appunto che cos'è una cellula e la cellula non devo spiegare a voi convenuti perché queste sono le vostre competenze più che le mie, ma è un sistema complesso che si muove, pensa, decide, annusa, ascolta e muovendosi sui tessuti produce delle vibrazioni. Tutte le vibrazioni sono numeri e suoni, non ce l'ha detto Einstein, ce l'ha detto un certo Pitagora, che tanto più è misterioso, tanto è più esplicitante degli esperimenti molto concreti come il monocordo con cui individuare le proporzioni matematiche e numeriche dei suoni. Tanto più misterioso che ci ha consegnato qualche importante teorema di tipo geometrico, tanto misterioso e come potremmo dire iniziatico che proibiva ai suoi allievi o discepoli, chiamateli come volete, di divulgare per iscritto e proibiva gli appunti con le volte anche da pena di morte. Tanto misterioso e strano che per i discorsi più importanti si faceva mettere davanti una tenda, un velo. In questo anticipato la potenza è iconica della radiofonia, cioè della fase oracolare, per cui se noi non vediamo una fonte di ascolto e i non vedenti sanno bene quanto compensa la percezione uditiva in rapporto all'impossibilità visiva, quindi invito tutti voi alle volte, musicisti, non musicisti, medici, chiunque, ad ascoltare veramente la musica a occhi chiusi. Non è solo un fatto così di sentimento più potente, proprio si attivano per compenso e aumentano le soglie percettive. Il professor Ventura, di cui praticamente io faccio l'ambasciatore, ma con qualche piccola aggiunta come musicista e compositore verso la fine del mio breve intervento, che avrà luogo alle 9.57, è quello per il quale cominciando a studiare con microscopi atomici, ed ecco che una volta tanto la tecnologia permette di indagare cose che gli antichi avevano semplicemente intuito con una capacità di osservazione che continuo a impressionarmi, perché il fatto che un certo Eratostene con dei legnetti e delle ombre abbia individuato la circonferenza del nostro pianeta sbagliando i 2.000 chilometri, cioè ha calcolato circa 42.000 su 44.000, a me continua a dire. Così come sapevano che certi tipi di melodie per via allopatica erano eccitanti, se erano melodie tranquille, per via omenopatiche erano rasserenanti, cioè lì poi c'è un collega amico carissimo che è un esperto di questione della musicoterapia antica e sa quanto gli antichi avessero addirittura classificato tipi, repertori, uso il termine repertorio, di cellule melodiche, che si usa, i musicisti usano il termine cellule tematiche, cellule melodiche, c'era proprio un vero e proprio repertorio destinato a usi taumaturgici. Facciamo un salto di 2.500 anni e il professor Ventura con il microscopio atomico intuisce che questi movimenti delle cellule su tessuti producono vibrazioni. Attenzione che come tutte le vibrazioni e le frequenze non sono solo tipo risonante, movimentale, ma sono anche di tipo termodinamico, biochimico e via dicendo, quindi è un complesso di elementi vibrazionali, ma tutti numerabili, tutti traducibili in numeri. In più, andando avanti in questa ricerca, riescono a creare dei filamenti al micron, sono dei sensori che riescono a pescare le vibrazioni e a tradurle in suoni reali e si accorge progressivamente che questi suoni reali di cellule che si spostano costruiscono delle melodie e come diceva prima il professor Vettorello, queste melodie però sono un repertorio. Quando uno sta bene e è un'età abbastanza giovane, queste melodie che sono state individuate e verranno fatte ascoltare e farà vedere anche dei filmati fatti dal microscopio atomico in questo seminario al Tartini, tra cui una danza di fotoni, che è già il termine, la parola è estremamente suggestiva. Quando mi ha fatto sentire questi materiali, è stato impressionante sentire che a un certo punto queste melodie in una cardiogenesi che stava sviluppando una fase patologica cominciavano a virgolette stonare, cioè a essere diverse da quella normalità, tra virgolette sempre melodica, che invece era stata rilevata in una, come posso dire, dimensione di non patologia del paziente a cui si applicavano anche dei sensori di rilevamento. Nel 2017, ce la farò a raccontarvi e anche a far sentire una cosa, succede una cosa incredibile. Io sono qui, proprio in quest'aula, a cui sto chiamando nel conservatorio, sto tenendo un corso di storia della musica jazz e parlo di un musicista delle avanguardie free degli anni 60, primi 70, Albert Tyler, il quale è stato un vero rivoluzionario del linguaggio e aveva il secondo batterista che ha avuto, Milford Graves, batterista che nessuno nomina perché è un batterista di nicchia che fa, insomma, anche la storia del jazz parla poco di Eiler e soprattutto di Milford Graves. Io però lo faccio sentire perché era un batterista che scioglieva i ritmi, che portava il free jazz anche nella batteria a cui aveva tolto il beat e scioglieva ritmi con effetti particolari. Vado a Bologna, incontro il maestro Salbego che dice ti devo presentare il professor Ventura perché è uno che fa delle cose incredibili, però arrivo a Bologna, mi presenta questo signore che ha meno anni di me e sembra un ragazzotto e lo trovate molte cose in rete del professor Ventura, Carlo Ventura, e mi dicono scusa Marco Maria, dovevamo parlare di una cosa, poi siamo da te. E dicono senti Milford, ha bisogno della batteria come diceva lui? No, no, ma adesso organizziamo tutto per questa session che faremo, no? Io ho detto Milton, session, ma dico non è possibile, Milford scusate, e dico ma state parlando di un batterista? Sì, di New York? Sì, ma Milford Graves? Sì, come fai a conoscerlo? Ma dico ma non è morto? Perché pensavo, scusate non è vizio, ma il suo band leader è morto con un coltello nella schiena per motivi di droga ed era un ambiente in cui si moriva presto. No, no, dicono Milford, tu non sai, mi è successo di cadere per una forma di preinfarto con un'aritmia gravissima, questo ancora anni fa, è andato a pronto soccorso, gli hanno detto che aveva aritmia gravi, gli hanno dato dei farmaci molto potenti, beta bloccanti, non so cosa del genere, dicono guardi lei la smetta di andare in giro a suonare perché è ad alto rischio. E va da casa, faccia il quietino, se voi vedete Milton è morto da poco, si è allungato la vita di 15 anni, vi dico come, no Milton, Milford? Lui va a casa e fa una considerazione sorprendente, dice ma è possibile che un batterista debba morire di aritmia? Io sono batterista e capisco che la cosa dà fastidio. Quindi dice morto per morto mi interessa una cosa, con un amico cinese e con degli aghi di indagopuntura, si collega a una macchina impulsi, registra tutti i suoni delle aritmie, ma anche suoni intraventricolari, gorgogli, cose che ai cardiologi non interessano, prende questi aritmi, li trascrive, li risuona correggendoli, si ripianta gli aghetti e si manda gli impulsi nel cuore, lo so, è un matto, di fatti lui guarisce, non ha più problemi, va dai cardiologi di New York e gli dice questo e pensano di farlo ricoverare in psichiatria, ma un cardiologo collegato alla fondazione Rockefeller dice no no aspetta che diamo un'occhiata, lo monitorano e scoprono che aveva ragione, cioè si era rifasato i ritmi con questo sistema. Esce su una rivista internazionale un articolo di questo tipo, Carlo Ventura lo legge, si mettono in contatto e faranno degli spettacoli assieme in cui in tempo reale, anche a Bologna per Angelica, faranno vedere come suonando, ma anche parlando, con dei sensori che trasmettono l'immagine tramite microscopio atomico su uno schermo, si vedono le cellule che modificano i loro comportamenti. Ora, lui sta andando avanti con queste ricerche ed è in fase sperimentale per delle macchine poco costose, di fatti le farmaceutiche non lo amano, che rifasano, sostanzialmente intercettano patologie nascenti sulle distonie, tra virgolette, melodiche di questi repertori cellulari. Io ho quasi finito il mio intervento, però chiederei ancora se mi date un minuto o più un minuto per farvi ascoltare una cosa e fare una chiosa e vorrei mandare in ascolto qualcosa. Abbiamo i tempi strettissimi, eh? Allora, vi mando una cosa da un minuto e vi dico che cos'è? Ecco, ma secondo me è meglio che chiudiamo qui e facciamo... Va bene, certo. No, no, sono assolutamente d'accordo. No, no, allora un minuto va bene. Siamo già in ritmo. Sulla correttezza dei ritmi, io sono d'accordo. Dunque, per fare la condivisione vado su condividi schermo, impostazioni, altro? Altro? Impostazioni, vediamo. Mostra ancora il profilo, display, generale, sfondo, informazioni. No, allora facciamo così, facciamo così, siccome ritengo giusto dare spazio anche agli altri, io vi saluto e vi farò avere nei prossimi giorni, vi mando il file con cui ascoltare una composizione che io e Vittorio Vella abbiamo fatto utilizzando, e chiudo, i suoni registrati dal SETI, che è un'agenzia governativa americana per la ricerca dell'intelligenza extraterrestri, i suoni di Quasar, Pulsar e Radiofari ricostruiti come un brano di musica, perché si può fare musica con tutto. Vi ringrazio per l'ascolto e buon lavoro. Vi ringrazio molto e ne parleremo diffusamente in un'altra sessione, prossimamente. Grazie, buon lavoro a tutti e arrivederci, grazie. Allora chiamo il maestro Micheloni che ci fa sentire il brano che lui ha prodotto. Buongiorno a tutti, volevo cogliere proprio lo spunto del mio professore, perché rimane ancora il mio professore Marco Maria Tosolini, e che ringrazio. Vorrei che per questi minuti che andrà questo inno dell'associazione potessimo chiudere gli occhi e aprire i canali di ascolto. Se ci manda la musica... Grazie a tutti. 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 Il gruppo interdisciplinare dell'Active Aging dell'Università di Udine. Prego se vogliamo far partire i saluti del dottor Moras. Non mi chiamo Giorgio, non mi chiamo Ivo. Comunque non è un problema. Io parlo il saluto mio personale ma anche della Commissione che rappresento. Noi come politica possiamo intervenire sull'argomento, ringiovanire invecchiando attraverso le scelte che facciamo e che nell'amministrazione corrente abbiamo già fatto. Nell'amministrazione corrente noi abbiamo posto un paradigma diverso, partire dalla domanda di sanità e non dall'offerta di sanità. Perché quando si va a incoraggiare la domanda, la domanda delle persone anziane e di tutte le persone, comunque si dà possibilità di una vita migliore e si danno risposte alle esigenze che maturano attraverso un percorso di conoscenza. Venerdì ero a Milano in una conferenza delle assemblee legislative europee e si parlava di disuguaglianze in sanità e tutti in tutta Europa evidenziano che bisogna andare incontro alle necessità che maturano nelle persone. Noi nella legge 22 del 2019 abbiamo messo il concetto che bisogna prendersi carico delle persone e questo prendersi carico avrà la sua efficacia attraverso le funzioni che verranno messe in capo la centrale operativa territoriale. Un prendersi carico, stabilire percorsi diagnostici, stabilire percorsi di cura attraverso i quali si migliorano le condizioni di vita futura delle persone. E negli anziani è molto importante perché le cronicità sono invalidanti e queste cronicità invalidanti devono essere intercettate. Bisogna fare in modo che la persona possa avere le cure adeguate per una vita migliore nel futuro. Io non ho molto altro da aggiungere se non che questi eventi portano ovviamente a migliorare il coordinamento tra i medici e le istituzioni e si può attraverso questi eventi incrociare ancora di più quella esigenza di sanità che matura nelle singole persone. Ringrazio il dottor Vettorello con il quale ci siamo già sentiti per altri motivi. Auguro a tutti voi una buona continuazione e che i frutti di questo evento li possiate portare ovunque voi esercitiate la vostra attività. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Grazie al dottor Moras, veramente di cuore. Lascio la parola al sindaco di Coloredo, Luca Ovan. Buongiorno a tutti. Mi ero preparato un discorso, anzi anche me l'hanno corretto, però voglio parlare a braccio perché ho visto dei passaggi, anche vedendo certe questioni della stampa, soprattutto la vita cattolica, che qui c'è una realtà veramente importante perché c'è il fatto di voi, di noi, che vogliamo rimanere in salute avendo una precauzione prima. Questa è una cosa veramente importante e molto concreta. Ma questo non è solo voi medici, però c'è il settore di tutto il sistema, del turismo, della cultura, della medicina. E questa è la cosa sempre più importante per portare avanti una collaborazione insieme. Ringrazio anche qui presente l'assessore della sanità, Patrizia Miolo, di Coloredo, che è qui presente. e l'amministrazione ha creduto molto in questo progetto. Un progetto che non è solo iniziato, perché è un progetto che sarà molto importante con la conclusione del castello, del Mastio, tre quarti ancora in piena costruzione, che verrà terminata fra un anno e mezzo. E soprattutto voglio ringraziare il dottore Vettorello. Quando ci siamo conosciuti circa, lui dice un anno e mezzo fa, io dico due, ma è una persona veramente cordiale, simpatica e molto convinto nelle sue prospettive, prospettive costruttive e molto importanti per la saluta di tutti. Voglio concludere dicendo questa cosa qua. Essere invecchiare vuol dire che si ha la fortuna di invecchiare, perché tanti, tra virgolette, possono anche mancare prima. Invecchiare è una cosa importante e bisogna gestirla in maniera favolosa. Non con le medicine, ma facendo una precauzione prima, come state facendo e come questo convegno sarà molto importante e convinto. E speriamo che il prossimo convegno saremo nella parte adiacente del castello. Grazie. Ringrazio Luca, un amico ormai. Invito il presidente della comunità colinare, Luigi Bottoni. Grazie a tutti quanti, dottor Rettorello. Grazie degli inviti, grazie di aver scelto questa sede nostra, che è una sede bella e prestigiosa. Penso che state cominciando a vedere le bellezze di questo castello. Per noi è anche un'occasione di mostrare quello che abbiamo, non solo la nostra sede, che tra l'altro, come anticipava il sindaco di Coloredo prima, è in sviluppo e in ristrutturazione l'Ala Est, e prevederà comunque delle altre sale convegno e anche altri spazi a disposizione per tante cose, ma anche noi cogliamo l'occasione per far conoscere un territorio, il territorio della comunità colinare, un territorio molto bello, che alcuni di voi conosceranno già, ma forse altri di voi è la prima volta che vengono da queste parti, approfittando di questo splendido weekend di formazione. Il tema è molto interessante, ringiovanire invecchiando. È un tema che comincia a toccarci, che forse fino a qualche anno fa io stesso potevo considerarlo un tema magari a venire, che non è molto attuale, ma già in questo momento qualche domanda ce la cominciamo a fare. Si vede, sì, sì, infatti. Si vede perché c'è del ringiovanire invecchiando, c'è soltanto una delle due parole, c'è solo l'invecchiando, manca il ringiovanire. Ecco, manca il ringiovanire, quindi è così. E quindi è un tema fortemente diventato attuale dopo quello che è successo in questi due anni di pandemia e dopo che il modello che avevamo a disposizione per gestire la terza età, la vecchiaia, la parte della vita dopo la pensione, è un modello che è entrato in fortissima crisi in tutti i suoi aspetti, nell'aspetto sanitario, aspetto organizzativo, aspetto economico, aspetto dei comportamenti. Tutte le domande che sono sorte in questo periodo ben poche hanno trovato risposta, quindi credo che ci sia anche un momento di transizione e un momento di rivedere quella che può essere la gestione della vita dell'uomo, delle persone, raggiunta una certa età, anche perché, come sappiamo, non è una cosa bella, ma è la realtà, la popolazione sta invecchiando sempre di più. Purtroppo i giovani scarseggiano, le statistiche dell'Istat recenti, questo ci hanno detto, che insomma i giovani nascono di meno, quindi c'è una popolazione che sta invecchiando. Popolazione che sta invecchiando bisogna gestire e bisogna che questa popolazione che sta invecchiando invecchi nella miglior maniera possibile. Io ringrazio quindi per questo tema, non solo per la sede, come ho detto prima, per il territorio che noi amiamo farvi conoscere, ma anche per l'argomento e per l'evento di formazione che in questi due giorni si svolge, ho visto con una quantità impressionante di trattazioni, di esposizioni, di argomenti, di convention, di discussioni che verranno fatte e che sicuramente daranno un frutto anche alla ricerca, allo studio, anche a voi che siete professionisti del settore. Ci attendiamo forse di vedere, non dico in questo momento, in questo convegno, ma con la vostra attività della Italian Longevity League, ci attendiamo di capire, anche noi come pubbliche istituzioni e come amministratori locali, ci attendiamo di capire quali potrebbero essere anche i nostri passaggi, perché attenzione a questo periodo della vita che oltre lo vivremo in prima persona, ma è un compito ben preciso e importante delle istituzioni riuscire a dare delle risposte diverse e migliori sotto tutti gli aspetti rispetto a quelle che sono state date e che hanno fallito sostanzialmente o che sono entrate in grossa difficoltà senza accusare niente e senza accusare nessuno. La pandemia non si poteva prevedere, una cosa del genere non era prevedibile, non era prevista, non era all'ordine del giorno, però ha messo in crisi un sistema. Mettendo in crisi il sistema ne apre un altro. Ecco che quindi credo che la vostra prospettiva di studiare questo fenomeno e di dare delle risposte diverse o più complete o più scientifiche a quello che era un fenomeno dell'invecchiamento lasciato un po' così gestito a se stesso e anche strutturato un po' da se stesso e con risposte che insomma nel corso degli ultimi anni sono state sempre quelle, sia il miglior auguro ed auspicio da parte mia perché questa convention riesca nel migliore dei modi. Quindi buon lavoro a tutti e ci vedremo un po' in giro qua. Ecco insomma, grazie. Grazie Presidente. Adesso inviterei il Professor Tell che come diceva, come abbiamo detto finora, insomma, rappresenta questo sforzo di multidisciplinarietà all'interno dell'università per quanto riguarda l'ActiveAging e che presenterà appunto nell'obiettivo di connettere insomma le istituzioni anche della nostra associazione la loro attività. Prego. Grazie. Grazie agli organizzatori, grazie in particolare a Gianfranco per questa opportunità di presentare quanto Udine sta facendo nell'ambito appunto dell'invecchiamento, dell'invecchiamento attivo e dei progetti innovativi. e vi parlerò sostanzialmente di questa attività del gruppo ActiveAging, un gruppo nato circa tre anni fa, nato con un approccio come si dice bottom up, cioè dalle competenze in campo più che da esigenze di partecipare o di definire delle nuove impronte di nuovi progetti di ricerca. Questo gruppo sostanzialmente è nato incarnando quella che è la mission dell'Università di Udine, ossia quello di promuovere le attività di ricerca finalizzate all'educazione e al trasferimento della conoscenza favorendo la crescita civile, culturale, economica e sociale del territorio e incarnando quello che appunto è la storia dell'Università di Udine che nasce unico Ateneo in tutta Italia, un unico esempio che nasce per volontà popolare da un referendum che è stato ottenuto dopo il terremoto del 1976 che ha anche purtroppo distrutto buona parte di questo paese coloredo intendo dire e che è nato appunto un'Università che è nata proprio con questa mission vocata molto all'interazione con il territorio e ovviamente l'interazione con il territorio è una cosa di cui ovviamente ci rendiamo tutti conto è il progressivo aumento dell'aspettativa di vita legata al miglioramento delle condizioni economiche condizioni mediche e della prevenzione della salute che progressivamente in tutti i continenti si sta verificando ovviamente porta con sé delle problematiche che in particolare adesso nell'Occidente dove come si diceva anche poco fa il decremento della natalità porta a un progressivo aumento della popolazione tra virgolette anziana per cui uno dei temi ovviamente è cercare di capire come non solo raggiungere un'età biologicamente più elevata ma come qualitativamente raggiungere questa mantenere una qualità della vita accettabile un altro tema legato a queste problematiche è ovviamente sono i costi citando anche prima il tema dei costi in sanità di un invecchiamento non salutare costi che progressivamente aumentano aumenteranno sempre di più e per cui temi che aprono delle sfide sfide in ambito biomedico in ambito di benessere alimentazione e salute in ambito tecnologico ed infrastrutturale ed in ambito sociale previdenziale assistenziale ed economico ecco il gruppo sostanzialmente che si chiama appunto gruppo Active Aging qui trovate il riferimento al sito web è un gruppo multidisciplinare ha nella multidisciplinarietà la caratteristica fondamentale per affrontare a 360 gradi temi legati all'invecchiamento in particolare l'invecchiamento attivo con l'auspicio di promuovere e sviluppare politiche di Active Aging rivolte al bene comune attualmente comprende circa 100 ricercatori del nostro Ateneo che considerando il fatto che è un Ateneo piccolo dove complessivamente ci sono circa 600 ricercatori avere 100 di loro che si occupano di queste tematiche soprattutto che appartengono a tutti gli otto dipartimenti dell'Ateneo è un motivo d'orgoglio e soprattutto è un indice di grande interesse nella tematica e nello sviluppo del tema le aree gli ambiti di attività di cui il gruppo si sta occupando sono stati definiti in quattro macro aree che sostanzialmente rispecchiano quelle che sono le principali competenze dei ricercatori coinvolti e che vanno dalla ricerca traslazionale diagnostica clinica d'assistenza alla prevenzione del benessere alle infrastrutture tecnologie e all'ambito del welfare e della narrazione per una società inclusiva gli obiettivi del gruppo sono quelli appunto attraverso un approccio interdisciplinare di sensibilizzare sul tema dell'invecchiamento attivo della popolazione di sviluppare potenziali ricadute a partire da queste tematiche in ambito didattico di promuovere attività divulgative di disseminazione e di contribuire soprattutto a rendere pienamente operativa una rete di soggetti capaci ciascuno di incidere in ambito invecchiamento attivo in modo ridicolare e sinergico naturalmente l'interesse principale è quello di sviluppare progettualità di ricerca sia nell'ambito di progetti regionali e la regione di Filippo Venezia Giulia nel 2014 si è dotata di una legge regionale sull'invecchiamento attivo sia nazionali che internazionali attraverso per esempio le progettualità di profilo europeo ma anche di fornire strumenti e dati scientifici ai decisori politici in un'ottica di corresponsabilità tema che è stato toccato anche precedentemente dall'assessore e di sviluppare rapporti di collaborazione in ambito scientifico didattico sul tema dell'invecchiamento con realtà estere attualmente abbiamo in essere una serie di accordi in particolare con il National Institute of Aging di Baltimora ma anche con centri e reti dedicate all'invecchiamento attivo già attive in Europa da diversi anni come a Porto come l'Università di Copenaghen come a Graz o anche a Klagenfurt ecco alcuni esempi di progetti che stiamo sviluppando sono progetti che riguardano sia progetti di ricerca di base per esempio con i meccanismi che sono coinvolti nell'antenimento della stabilità dei telomeri evento che come sapete l'erosione telomerica è uno dei principali eventi connessi con la senescenza cellulare che è anche un tratto distintivo dei processi di invecchiamento e abbiamo avuto questa parte del mio laboratorio un finanziamento dall'NIH per studiare questi processi alcuni anni fa poi processi progetti di tipo internazionale come i PORFESR questo coordinato dal professor Della Mea un informatico che ha portato lo sviluppo di un wearable device per seguire l'anziano all'interno delle mura domestiche ed in remoto in maniera tale da poter avere un controllo per la sicurezza a progetti sulla sarcopenia come questo coordinato dalla professoressa Colitti mirato a non solo identificare attraverso una ricerca a livello molecolare biomarcatori connessi col processo di sarcopenia ma anche di poter sviluppare dei percorsi alimentari adatti per questo contesto fisiopatologico ha progetti anche di sviluppo formativo come questo coordinato dalla professoressa Palese che è il più ordinario coordinatore del corso di laurea in infermieristica dove si mettono insieme le competenze dei caregivers e sostanzialmente del personale coinvolto nella gestione dei pazienti affetti da demenza senile un progetto che si è recentemente concluso e finanziato dalla fondazione Friuli giusto per darvi un esempio di approccio multidisciplinare al tema in questo caso ha affrontato il tema della fragilità attraverso appunto un approccio multidisciplinario multidisciplinare in cui i vari ambiti di competenze si sono sviluppati in otto work packages dove è stato affrontato il tema della fragilità a 360 gradi dai meccanismi molecolari dell'invecchiamento e in particolare per lo sviluppo di farmaci senolitici un tema particolarmente interessante a giorno d'oggi allo studio da parte degli econometristi di parametri legati alla condizione di vita degli anziani e alle implicazioni per quanto riguarda l'aspetto del lavoro e dei lavoratori del tema della fragilità degli anziani fino all'applicazione di tecnologie di intelligenza artificiale per la rilevazione in real time delle cadute per ottimizzare e sostanzialmente prevenire le cadute in ambito ospedaliero ecco concludo anche parlandovi di un progetto strutturale di infrastrutturale che stiamo portando a compimento come dipartimento di medicina cioè la costruzione di un building di ricerca di circa 2400 metri quadrati che verrà inaugurato nei prossimi mesi dedicato proprio allo sviluppo di progettualità nell'ambito dell'invecchiamento in cui ci saranno una serie di facilities in particolare la biobanca che sarà una biobanca certificata ufficialmente integrata nella biobanca regionale estremamente importante per studiare le tematiche correlate con le patologie dell'invecchiamento che qui vedete riportate ecco io vi ringrazio e ringrazio ancora Gianfranco per avermi dato l'opportunità di presentare questo gruppo e auspico che ci sia un proseguo di attività integrate con sostanzialmente con l'Italia Longevity League che Gianfranco così bene coordina bene grazie a voi e grazie a Gianfranco grazie grazie Gianluca ovviamente la mission della nostra associazione è proprio questa connettere le menti le persone e fare la giusta informazione alla gente quindi diciamo dare una ricaduta anche pratica alle nostre attività se mandi le mie diapositive introdurrò adesso un attimo l'Italia Longevity League molto velocemente per poi cominciare l'attività vera scientifica diciamo l'abbiamo detto questo è il trend pubblicato sull'Anset della nostra popolazione in questo periodo ecco questo nel 2017 come si modificherà nel corso degli anni vedete la percentuale di oltre ottantenni novantenni e centenari che sono diciamo il trend assolutamente importante già attualmente un cittadino su quattro e oggi è in area silver e quindi questo rappresenta una forte fonte di spesa con una popolazione che è in proiezione il 35% della nostra popolazione nel 2050 parlare di invecchiamento oggi è un po' un back to the future tornare indietro già ne parlava Terenzio diceva che l'età è di per se stesso una malattia ma quella che è la novità è che nel 2019 quello che noi codifichiamo come codici per le malattie che è stato revisionato nella sua undicesima edizione porta l'età come una malattia con tutte le malattie correlate all'età quindi identificando già l'età come una malattia abbiamo veramente un cambio di paradigma vuol dire che come tutte le malattie possono essere prevenute e curate vuol dire che noi possiamo prevenire e curare anche questa malattia che causa tutte le altre sulle quali ci siamo concentrati in questi 30 anni o 40 anni di medicina che ho cavalcato anch'io una medicina basata sulla cura della malattia e non sulla salute sostanzialmente ecco quello che noi possiamo dire è che l'età quindi è il più grande fattore di rischio per le malattie croniche quindi è una malattia e quindi è il più grande fattore di rischio e noi possiamo combatterla grazie ai processi tecnologici esponenziali che potremmo essere in grado di fornire ai nostri pazienti l'idea per questo è nata la nostra associazione per unire gli esperti e per informare la gente per diffondere un percorso verso la longevità favorire la ricerca e sviluppare progetti anche umanitari perché come ONLUS noi abbiamo anche l'obbligo insomma di esprimere in condizioni di necessità che sono quelle che nel mondo abbiamo perché bastano anche poche informazioni e noi possiamo dare svolta anche a popolazioni in difficoltà con la nostra conoscenza ed è sarà una conquista estremamente importante alcuni parlano di poter abolire l'invecchiamento ma insomma sono discorsi che ne parleremo più avanti l'organizzazione mondiale della sanità nel 2020 2030 ha identificato proprio il decennio dell'elty aging e cominciamo ad entrare nell'ottica delle relazioni che si susseguiranno partiamo dal concetto che la senescenza non è un sottoprodotto obbligatorio dell'esistenza cioè di essere vivi ci sono nell'ambito animale appunto organismi che vivono moltissimo che condividono con noi il 90% del codice genetico quindi è un concetto che evidentemente invecchiare non è obbligatorio in senso stretto per tutti gli esseri viventi questo è un concetto che ha portato negli ultimi anni a sviluppare moltissime ricerche in vari ambiti li vedete citati qualcuno dalla medicina rigenerativa fino alla clonazione terapeutica fino alla rigenerazione di tessuti eccetera eccetera chiaramente ci sono delle necessità la ricerca deve avanzare devono avanzare i sistemi di controllo e di verifica che è quello che diciamo evidence based e ovviamente deve essere assicurato un'accessibilità a questi trattamenti che se in questo momento possono essere limitati a gruppi di popolazione per un'economia di scala sicuramente nei prossimi cinque anni come è scritto in letteratura saranno a disposizione di tutti un aspetto importante da tenere presente che quello che ho fatto io come chirurgo quello che hanno fatto tanti altri come medici di curare le malattie croniche invalidanti e le più importanti malattie che abbiamo insomma le cardiovascolari le oncologiche le malattie neurodegenerative mediamente se anche noi le potessimo sconfiggere con più interventi o con 15 farmaci al giorno aumentano mediamente la vita di una persona nella media mondia nella media di 4-5 anni quello che abbiamo imparato dallo studio dei centenari che cominciano ad ammalarsi 20 anni dopo gli altri cioè quelli come noi per motivi di cui parleremo sicuramente dopo cominciano ad ammalarsi 20 anni dopo significa che se noi facciamo una attività diciamo basata sull'evidenza chiaramente scientifica e applicativa possiamo guadagnare molti più anni di vita in salute piuttosto che con la terapia che noi siamo abituati ad applicare ai nostri pazienti io come chirurgo moltissime volte mi sono trovato di fronte a situazioni in cui aver dato 20 o 30 anni di un certo tipo di vita a delle persone mi ha messo molte volte dei dubbi per la tipologia e la qualità di vita che purtroppo non riuscivo a dare a queste persone è stato importante nel 2013 un lavoro scientifico che ha un impact fondamentale gli old marks of aging qui abbiamo capito che ci sono vari aspetti strutturali dai sistemi a livello sistemico fino a livello molecolare e cellulare che si sono studiati in centinaia migliaia di laboratori in giro per il mondo e che sono stati integrati in una visione che sembra essere sempre più unitaria dell'invecchiamento così che sembra quasi che la possibilità di poter ridurre l'invecchiamento o meglio ancora di poter fare un reverse age sia la possibilità per noi globalmente per i nostri organi e tessuti per ogni segmento e per ogni parte del nostro corpo sia la cosa migliore da fare per poter evitare le malattie croniche correlate all'età cioè questo vuol dire che noi potremo arrivare ad avere una medicina per tornare indietro con l'età è possibile certamente le cose che dobbiamo sapere sono molte la medicina della longevità è interdisciplinare ogni specialistica da quella chirurgica alla genetica possono essere diciamo declinate con gli aspetti di medicina della longevità il marketplace è importante quello che dobbiamo fare è fare network come facciamo oggi cercare di capire dove non svilupperemo a fondo tutti questi concetti magari sarà possibile farlo in fasi successive ma far capire a tutti che bisogna parlarsi gli uni gli altri per creare quel network che altri hanno capito che bisogna fare sia Google che altre importanti fondazioni hanno investito moltissimo nella ricerca sull'invecchiamento e stanno lavorando moltissimo su questi aspetti quindi questo è l'obiettivo della nostra associazione quindi creare insieme delle linee guida dare una possibilità di ricaduta pratica di validazione scientifica e soprattutto di educazione di informazione e di creare un network e far sì che questo network abbia una sua corretta divulgazione questo vuol dire anche entrare nella logica di chi fa produzione di chi fa tecnologia oggi si parla moltissimo di tecnologie correlate all'invecchiamento la sensoristica i wearable tutta la diagnostica che riguarda l'invecchiamento fare connessione tra questi per portare ai tre livelli fondamentali la salute fisica la salute mentale alcuni dicono anche giustamente la salute finanziaria quindi la qualità del nostro percorso professionale e il modo per avere una qualità di vita anche economicamente gestita in una fase che potrebbe essere anche molto lunga quindi anche di più di 30 anni a cui ci possiamo approcciare questa è la nostra timeline che finora è stata rispettata siamo alla prima convention che si è trasformata per fortuna in un congresso progressivamente lavoreremo a una scuola di medicina della longevità e cercheremo di mettere in pratica anche queste cose speriamo sia possibile l'importante è quello che abbiamo fatto oggi cercare di connettere gli esperti cercando di informare la popolazione il nostro sito è aperto a tutti possono iscriversi tutti perché anche un insegnante un ristoratore un ingegnere hanno competenze e volontà di conoscenze nell'ambito della medicina della longevità lascio spazio al dottor Barone per la prima sessione e agli altri relatori grazie 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 Gianfranco buongiorno a tutti dunque la mia relazione è quello riflette sostanzialmente riflette sostanzialmente quello che è stata la mia storia nei primi mesi del covid sono medico di famiglia e quindi quando c'è stato alla fine del 2019 tutto il problema legato all'inizio di questa pandemia ognuno ha cercato di muoversi come ha potuto e noi faremo vedere in che modo noi ci siamo ci siamo mossi siamo un secolo fa questo è Schiele che ritrae la moglie incinta morente per la spagnola poco dopo morirà anche lui per la spagnola ci furono 50 milioni di morti quella volta siamo a Wuhan il 27 di dicembre del 19 e per la prima volta si ammalano tre persone adulte di polmonite questo è l'oculista che per primo ha avuto l'idea di pensare che si fossero di fronte a una nuova tipologia di virus perché contestualmente alle lesioni polmonari una polmonite atipica queste persone avevano una congiuntivite purtroppo ci ha lasciato sempre per il covid il 7 febbraio del 20 questa invece la dottoressa la direttrice del laboratorio di Wuhan che ha avuto il merito molto rapidamente di rilasciare a livello internazionale quella che erano il genoma del virus già direttamente il 9 di gennaio quindi in un tempo veramente molto rapido chiunque a livello mondiale ha avuto accesso alle chiavi per poter fare tutti i test che via via si sono sviluppati nel resto del mondo quindi quando ci sono e quando ci troviamo di fronte a questo tipo di problemi che sono enormi la rapidità la tempestività è sempre qualcosa di estremamente interessante di qualcosa di estremamente importante facciamo un passo indietro nel 2003 io sono responsabile dell'aggiornamento obbligatorio dei medici di famiglia della bassa friulana e decidiamo assieme alla mia collega della goriziana di organizzare un aggiornamento obbligatorio che raccolga 250 medici in otto ore al castello di Gorizia proprio per preparare almeno un quarto della popolazione della medicina generale della regione di Friuli e Venezia Giulia a che cosa significa avere a che fare con un virus di questo tipo che cosa significa lavorare con questo virus e quali sono le precauzioni e le modalità grazie alle quali noi dobbiamo lavorare all'interno di questo passano gli anni 20 anni non sono più responsabile dell'aggiornamento obbligatorio ma ovviamente non viene meno l'assenso di responsabilità per cui il mercoledì 12 febbraio del 20 organizzo presso l'ordine dei medici di Udine una riunione serale due ore in cui invito l'infettivologo dell'università di Udine Tascini invito il responsabile del pronto soccorso di Udine invito Mario Calci invito la responsabile del dipartimento di prevenzione Bujancic e invito anche una dottoressa della continuità assistenziale guardate le date 12 febbraio qualcuno diceva che non sarebbe mai arrivata naturalmente in Italia questo virus proprio il 12 febbraio o il giorno prima in realtà aspettiamo solamente sei giorni e inaspettatamente è arrivata una bomba atomica al primo paziente di Codogno ma tre giorni più tardi c'è stato il primo decesso Voe Uganeo come si sono comportati a Voe Uganeo la stessa sera a Voe Uganeo è stato circondato si è istituito un cordone sanitario quindi nessuno poteva uscire nessuno poteva entrare ed è a quel punto l'unica possibilità seria di poter avere la possibilità di contenere il contagio nelle aree vicine direi che in un tempo minimo cioè siamo il 23 febbraio Zaia chiude il Veneto e Fedriga il giorno dopo chiude Friuli Venezia Giulia devo dire che queste due tempestive decisioni da parte di Zaia da parte di Fedriga hanno salvato io direi salvato queste due regioni dalla prima ondata mentre dall'altra parte dell'Italia è successo quello che è successo da noi probabilmente io personalmente in tutti quei mesi ho avuto un solo caso fino praticamente a ottobre non ci siamo interessati di Covid nel senso che non li abbiamo avuti se non un caso singolo ovviamente il 24 febbraio io torno al lavoro e memori di tutto quello che avevamo imparato chiudo l'accesso trasformo un accesso libero a un accesso controllato cominciamo a controllare i pazienti per quanto riguarda la temperatura i pazienti sintomatici non devono entrare in ambulatorio e faccio tutte quelle cose che ormai dopo due anni sappiamo sappiamo tutto non è stato così semplice perché per 20 anni abbiamo lavorato in modo completamente diverso tutti quelli che volevano affluivano all'ambulatorio per cui cercare di far rispottare queste regole alle persone non è stato così semplice l'altra cosa importante sono state le cure precoce a domicilio come si sono comportate le diverse strutture parliamo del medico di famiglia questo è Riccardo Munda lavora a Selvino che è sopra e in alto a 1200 metri di quota sopra Nembro lui vede le solite broncopromonite degli anziani questa volta un po' più cattive perché non riuscivano a passare quindi passa da un antibiotico classico ne passa due poi raddoppia il secondo antibiotico e continua così la sua particolarità è che ha investito molto di suo in camici e addirittura si è comprato una vaporella per sterilizzare la macchina eccetera a tutt'oggi lui non ha nessun decesso la cosa particolare è che lui ha guarito tutti i suoi pazienti con l'utilizzo di due antibiotici questo è Andrea Mangiagalli milanese siamo il 27 di febbraio apre una chat che in questo momento ha 250 medici famiglia sono in genere quasi tutti milanesi ma attraverso questa chat cominciano uno scambio molto rapido di informazioni cosa hai visto come è stato avere 200 medici che interloquiscono con una chat veramente in un attimo sappiamo cosa sta succedendo e che cosa noi possiamo utilizzare loro sono stati in pipare il primo gruppo organizzato a cui ne faranno seguito molti altri l'ospedale come si sta comportando non possiamo che citare questo medico Pierluigi Cavanna perché è stato l'unico che ha capito che in quel momento non doveva essere i malati non dovevano essere curati direttamente in ospedale anche perché in ospedale ci arrivavano veramente molto tardi quando la situazione generale era molto compromessa ma avevano la necessità di essere trattati a casa quindi loro molto rapidamente hanno istituito delle equip minimali un medico un infermiere che aveva anche l'ecografo eccetera e hanno cominciato a curare a casa la rivista Time gli ha fatto anche un articolo ma ci sono anche delle esperienze più interessanti e più importanti che sono quelle del distretto non so quanti di voi sanno dell'esperienza del distretto di Aquiterme o Vada non ne parla mai nessuno a livello nazionale dove è successo questo ci hanno fatto anche un lavoro di sperimentazione hanno quindi il capodistretto coordinato con un reparto dell'ospedale ha messo insieme i 42 medici del distretto e tutti quanti hanno iniziato a curare allo stesso modo tutti i loro pazienti quindi un distretto ha lavorato in un modo molto molto efficace il risultato qual è? che entro 5 giorni dall'inizio dei sintomi l'80% delle persone è sfebrato e sta bene e sta bene l'altro 15% e arriviamo al 95% con uno steroide riesce a guarire e a migliorare entro l'ottava giornata salvo quel 5% che poi qui non è specificato la cosa importante è che i farmaci usano usano i farmaci che erano quelli che l'OMS aveva indicato come farmaci utili durante la SARS-CoV del 2003 quindi noi non abbiamo fatto altro che prendere quelli del 2003 e li abbiamo spostati al 2000 per cui abbiamo utilizzato idrossiclorochina cortisone e parina e quando serviva l'antibiotico siamo il 13 marzo io personalmente faccio questo webinar per i clienti di un'assicurazione che volevano sapere come devono comportarsi con le modalità con cui difendersi dal Covid e purtroppo qualche giorni dopo il 13 marzo muore il primo medico Roberto Stella presidente dell'ordine dei medici di Varese medico di famiglia responsabile dell'area strategica eccetera ed è persona con cui ho lavorato per 20 anni non ci saremmo mai aspettati che anche i medici potessero morire sono 374 i medici che sono deceduti a tutt'oggi e passiamo al punto 4 che è la conoscenza il 23 marzo questa è una data importantissima perché per molto tempo si è pensato che nessuno avesse fatto le autopsie non è vero Andrea Gianatti che è responsabile dell'anatomia patologica dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo mandato nel reparto di medicina per trattare i covid da un certo punto dopo due settimane dice io non sono capace di curare i covid ma sono capace di andare a capire perché le persone con i covid muoiono e quindi si vestono come un palombaro con gli scaffandri con l'aria che va fuori assieme a un suo consulente e cominciano a fare le autopsie ne fanno e cominciano a fare e ne fanno e ne fanno molto e questi sono dei risultati finalmente il 23 marzo del 20 il mondo capisce che cosa sta succedendo prima di queste autopsie i cinesi avevano fatto solo 5 micro autopsie 5 in realtà Gianatti ha aperto al mondo intero la possibilità di capire perché le persone morissero quindi il 23 di marzo tutti avrebbero dovuto sapere del perché si moriva e tutti avrebbero dovuto sapere che un farmaco fondamentale era rappresentato dall'eparina un altro evento secondo me straordinario pochi giorni dopo il 31 andiamo un po' più in là col tempo ma è questo webinar del professor Viale che illustra un lavoro di ricerca fatto da questi due ricercatori e che finalmente per la prima volta introduce il concetto di tempesta citochinica oppure introduce per la prima volta i tempi della malattia quindi c'è un tempo della viremia c'è un tempo della polmonite c'è un tempo della caduta della tempesta citochinica e c'è un tempo delle tromboembolie diffuse dalle microembolie alle macroembolie questo per tutti è stata una chiave di volta importantissima la condivisione siamo noi il 4 aprile del 20 non siamo stati toccati dal dal covid però anche noi insomma non è che possiamo stare senza fare nulla o con le armi in mano fondiamo anche noi una chat che si chiama Medici FWG covid19 sono attualmente anche noi siamo 250 medici famiglia però non siamo friulani siamo di tutta di tutta Italia e io comincio a fare dall'aprile del 20 comincio a fare un webinar tutte le settimane e non mi sono mai fermato nel senso che da allora io continuo a fare ogni settimana un webinar abbiamo anche organizzato l'11 e il 12 settembre il primo credo convegno nazionale su questi su questi temi a Roma Fiumicino tra le altre avevamo 25 relatori e con collegamenti anche con Brasile Cile e Spagna quindi se abbiamo imparato qualche cosa le cose che mi sento di dire sono essere tempestivi nelle decisioni su cosa fare su come difendersi e su come limitare il più possibile la diffusione del virus sapere esattamente quello che sta succedendo non era mai accaduto che un virus uccidesse con le trombosi massive non lo sapevamo prima lo abbiamo scoperto noi italiani il 23 marzo perché abbiamo fatto le autossie e una rapida condivisione delle conoscenze in rete l'apertura di molte chat ha permesso una rapida condivisione di tutte queste informazioni grazie a tutti i sanitari e a tutte le persone che sono andate ad affare durante tutto questo tempo della pandemia grazie allora diamo spazio adesso a Eugenio Sclauzero che ci parla dell'analisi della covid-19 dell'analisi della composizione corporea parametri funzionali e stress ossidativo prego grazie mille grazie a tutti gli intervenuti e quello che faremo è andare a capire un po' perché ci sono state gravità anche diverse lo capirete alla fine delle diapositive ma quello che voglio presentarvi è quello che è l'aspetto psico-neuro-endocrino immuno-metabolico dove questo network comunica continuamente uno con l'altro ed è proprio questo network di comunicazione che permette al corpo di stare bene ed è sostenuto dal sistema neurovegetativo quindi l'importanza è che questo sistema funzioni in maniera opportuna esiste tutta una serie di valutazioni nella diagnostica complementare per valutare il livello di ossidazione presente nel corpo possiamo valutarlo con alcune apparecchiature il DROM test il bad test ma soprattutto potremmo stare a parlare una giornata intera su tutto questo ma sarà oggetto poi delle lezioni della scuola della longevity quello su cui mi soffermerò oggi io sarà la biva cioè l'analisi della composizione corporea è un test semplice che in pochi minuti si fa permette di collocare il paziente all'interno di quello che è un vettore e capire un momentino com'è la situazione della persona stessa guardate la correlazione tra l'angolo di fase e il grado di gravità delle patologie così non si capisce niente vi do ragione lo trasformiamo in istogrammi e voi vedete come l'angolo di fase se è normale la maggior parte delle persone era in assenza di patologie questa è una ricerca fatta su 500 persone e dove vediamo che quando l'angolo di fase si riduce molto la maggior parte delle patologie era di tipo neoplastico cronico degenerativo l'altro aspetto è valutare perché succede questo quando abbiamo una carente idratazione con abbassamento dell'acqua totale minore eliminazione degli acidi e delle tossine e soprattutto una nutrizione sbilanciata abbiamo un'alterazione dei parametri che legano poi l'acqua intra ed extracellulare considerate che l'acqua extracellulare sale man mano che aumentano le tossine nel corpo se si abbassa l'acqua intracellulare riduce la produzione di ATP il ciclo di Krebs ma soprattutto l'acqua extracellulare in eccesso aumenta la tossicità l'acidosi e la glicosilazione delle proteine di membrana se tutto questo poi lo abbiniamo anche alla valutazione del metabolismo basale quindi alla produzione energetica di ATP e alla diminuzione dell'angolo di fase che valuta il livello di integrità delle membrane cellulari e lo uniamo anche a quello che può essere lo stress ossidativo con l'incremento dei glucocorticoidi avremo lo squilibrio del sistema neurovegetativo che si manifesta con questi sintomi vaghi e da specifici che non sono nient'altro che un indice di questa diciamo instabilità del sistema ora vi mostrerò semplicemente velocemente 4000 BIA fatte dove andremo a vedere il metabolismo basale l'angolo di fase l'acqua totale del corpo il livello di membrane cellulari e l'acqua extracellulare voi sapete che il BMI è un indice molto relativo perché posso avere con lo stesso peso due persone completamente diverse quindi è un indice che si valuta solo tra virgolette nelle grosse popolazioni comunque un'analisi è indicativa se noi cambiamo gli stili di vita delle persone noi vediamo come la restrizione diciamo nella fascia di benessere migliora con una variazione di 371 casi in più su 2000 che si collocano in un'area di benessere con un aumento quasi del 20% in quest'area riducendosi del 9% nei sottopeso e del 10% nei sovrappeso altro aspetto è quello dell'idratazione l'idratazione è fondamentale perché gli acidi noi li eliminiamo dal corpo appunto con la pipì se non beviamo e non facciamo pipì gli acidi non li buttiamo fuori anche qui abbiamo una variazione dell'acqua con un migliore effetto diciamo così attraverso l'idratazione voi vedete come le persone aumentando l'idratazione migliorano sostanzialmente nell'arco di tre mesi queste sono delle analisi della BIA fatte a tre mesi di distanza una dall'altra su 2000 persone e il cambiamento degli stili di vita può migliorare l'acqua totale può migliorare l'angolo di fase che è l'indice del benessere proprio delle membrane cellulari e quindi dell'integrità che abbiamo e del livello di stress ossidativo e anche l'angolo di fase abbiamo un netto miglioramento cambiando gli stili di vita l'alimentazione il movimento e quant'altro stesso dicasi per il metabolismo basale dove abbiamo un aumento quindi dell'energia prodotta dal corpo dell'86% e voi vedete come si incrementa il metabolismo basale nell'arco di tre mesi ultimo aspetto è quello dell'acqua extracellulare l'acqua extracellulare cresce in funzione del livello di tossicità abbiamo una riduzione con tre mesi di adeguamento degli stili di vita dell'84% e quindi poi un decremento dell'acqua extracellulare vista a distanza di tre mesi cosa serve tutto questo se io prendo tutti questi parametri io posso vedere come una persona di 40 anni in questo caso variando questi parametri può avere un punteggio globale di indice degenerativo molto più alto a seconda di come cambiano i parametri questo è un semplice foglio di Excel dove aggiungendo questi parametri qui automaticamente vi dà il livello di integrità o di danno degenerativo delle persone e questo cosa serve sul discorso del covid serve per dire semplicemente questo che ve lo trasformo in histogrammi per capire meglio la performance di cui parliamo anche nella longevità non è solo sportiva è uno scambio relazionale affettivo sociale cognitivo intellettuale programmatica fisico ginnico atletico sportiva psicologica motivazionale ma soprattutto è longevità in benessere e nelle immagini di prima che abbiamo visto non sono usciti gli histogrammi probabilmente un'animazione che non è partita ma le persone che hanno avuto un covid più grave e quindi dei problemi per cui il ricovero l'ospedalizzazione e quant'altro erano quelle che avevano uno stress ossidativo maggiore quindi quanto più la persona infiammata tanto più poi la produzione di proteine spike infiammatoria e quant'altro esalta quell'infiammazione ed è la domanda a cui molti si pongono molte volte ma quello lì era uno sportivo faceva sport non vuol dire niente se è uno sportivo che non è compensato che è molto infiammato a livello muscolare e quant'altro può avere un rischio maggiore ugualmente anche se è uno sportivo quindi la perfono non è solo competizione ma soprattutto benessere quindi equilibrio del sistema psico-neuroendocrino immunometabolico e questo potrebbe essere anche trasformato questo anagramma nella potenza nel voler essere interiormente migliore vi ringrazio per l'attenzione allora diamo la parola al dottor Carta Bologna giusto? Bologna Bologna omotopsicologo omeopata psicologo terapista del dolore che ci parlerà della modulazione immunitaria in periodo di covid perfetto il macchinino grazie grazie in realtà fortunatamente anche se non ci eravamo parlati hanno un senso unico queste tre relazioni quindi è molto buono questo aspetto allora io vi parlo proseguo il termine i termini che ha dato Barone prima e vi parlo di un altro tempo che c'è cioè il post ok quindi questo perché perché vi parlo di un qualcosa che comunque vedo tutti i giorni attraverso quello che è l'analisi del pannello linfocitario completo abbiamo la possibilità io dirigo la parte medica di un poliambulatorio medico ed ontoiatrico dove ci occupiamo anche dell'interrelazione delle malattie orosistemiche quindi gli aspetti sistemici anche delle malattie orali tutto questo sia in termini di anti-aging longevità ma anche naturalmente di infezione e di parte attiva che cosa rapidamente cercherò di essere molto sintetico l'immunità innata è la grande dimenticata di questo periodo la grande dimenticata perché si sta cercando di stimolare molto quella che è un'immunità acquisita ma si dimentica che l'equilibrio è centrale nel corpo e che quindi immunità innata e immunità acquisita devono essere cavallo e cavaliere che insieme vanno in battaglia un cavaliere senza cavallo purtroppo fa poco ed è estremamente poco efficace ho scelto alcuni parametri di cui parlare naturalmente il ruolo della vitamina D è stato uno dei parametri oltre all'infiammazione di cui ha parlato e dello stress acidativo di cui ha parlato Sclautero prima che sono i parametri che completano questo aspetto i livelli di vitamina D sono stati uno dei parametri fondamentali vi do una rapidissima anche perché ci vorrebbero meno due giorni di ricorso sul pannello linfocitario vi farò vedere un pannello linfocitario di un post-covid non tanto grave e su una risoluzione grafica particolare e naturalmente quello che è importantissimo ora è l'epidemia di riattivazioni virali che il covid e la proteina spike stanno facendo l'immunità innata e acquisita quindi sono sostanzialmente due parti di uno sviluppo che si devono sviluppare insieme naturalmente e non bisogna essere assolutamente dimenticate questa parte vado abbastanza velocemente qui stanno uscendo giornalmente devo dire una serie di articoli molto molto interessanti da parte di Nature di Harvard immunology di altri tipi di situazioni che sono veramente molto molto interessanti uno di questi parla di questo tipo di molecole che sono le human humoral fluid phase pattern recognition molecole che sono praticamente delle piccole proteine che riconoscono i glucidi che sono intorno e attaccati alla proteina spike questi sono come in un qualche modo a me piacciono le metafore sono come dei droni che in un qualche modo fanno parte di quella che è la struttura dell'attività dell'immunità innata queste molecole naturalmente più l'immunità innata decade e più vengono a decadere quindi con più aumenta lo stress ossidativo con più diminuisce la proteina la vitamina D con più la persona non si espone al sole con più non fa attività fisica con più mangia dolci o beve alcolici tutte cose che sono successe e che sono andate a detrimente di quello che è l'immunità naturale nel periodo della pandemia qui sono tantissime ho scelto soltanto alcune di queste pubblicazioni che dicono l'importanza appunto naturalmente delle natural killer nel controllare il covid quelle che sono le funzioni sempre delle natural killer ma del TGF beta e la disfunzione dell'interferon alfa subito all'interno tutte cose che poi portano naturalmente a quello che Barone ha parlato prima di quello che è la tempesta citochinica nella fase iniziale la vitamina la vitamina D ha un ruolo da leone che non deve essere dimenticato l'introduzione della vitamina D oggi si sa che la vitamina D è un vero e proprio ormone che è negativo darlo ad altissime dosi come si faceva all'inizio ma che va data con una somministrazione ormonale a piccoli dosaggi piccoli dosaggi insomma per alcuni non sono tanto piccoli ma dalle 3.000 alle 4.000 unità giornaliere per alzare quelli che sono i livelli naturalmente a 75-80 unità internazionali dove la vitamina D non ha attenzione effetto sul metabolismo osseo ma effetto sull'immunità e in particolare nella regolazione del sistema RAS renin-angiotensina e nella regolazione di quelle che sono le cellule helper comunque del sistema immunitario e tutte le altre cellule del sistema immunitario mentre invece per il metabolismo osseo ha la necessità assoluta di essere accompagnata dai suoi cofattori che sono la vitamina K K2 il boro e il magnesio naturalmente quindi tutti gli studi che portano ai livelli soltanto della vitamina D non sono esaustivi nell'ambito di quello che è il metabolismo osseo a noi interessa però la somministrazione dal punto di vista immunitario quindi questi sono alcuni soltanto degli studi in cui vedono che c'è questa estrema correlazione con la gravità e i livelli di vitamina D ma ancora vi farò vedere questo questo è una espressione grafica del laboratorio che il circuito della microimmunoterapia fa attraverso l'esemplificazione del pannello linfocitario attraverso degli istogrammi questa è un'esemplificazione che rende un po' diciamo più semplice la lettura a livello immediato ma anche la spiegazione del pannello le sigle sono realmente molto complesse questo è un mio paziente io ho più di 300 di questi pannelli che sto vedendo e studiando da un punto di vista anche con la fortuna di avere la collaborazione con Mauro Mantovani un grande immunologo di Milano con cui stiamo collaborando anche per la realizzazione della concordanza dei test delle citochine orali in concordanza con il pannello linfocitario completo e qui vedete che cosa qui in qualche modo per leggerlo queste linee nere sono il livello ottimale delle popolazioni che sono tante sigle e l'istogramma è la rappresentazione di quello che è il livello questi livelli molto alti sono livelli che sono in realtà dei rapporti quindi non preoccupano particolarmente in questo caso noi vediamo vi semplifico non parlo esageratamente però diciamo che i T8 che sarebbero i T citotossici in questo caso sono come delle truppe che insomma in un qualche modo sono rimaste diciamo dimezzate e quindi il livello è andato al di sotto in questo caso si sta esprendendo anche il post covid cosa determina può determinare delle riattivazioni virali che vediamo tra poco e anche in realtà stiamo studiando anche delle espressioni nell'ambito dell'espressione batterica particolare e dopo vi farò vedere il perché gli antibiotici hanno avuto questa terapia così efficace in termini di longevità naturalmente ovviamente sappiamo che quando c'è la senescenza il sistema immunitario tende a essere iporiattivo questi livelli si abbassano tutti naturalmente delle popolazioni più sensibili ma possono aumentare e le diminuzioni cioè diminuire questo parametro che sono i T suppressor i T suppressor sono in un qualche modo le cellule facendo una una metafora sono gli affari interni della pulizia cioè coloro che tendono a sopprimere le cellule che sono impazzite quindi come gli agenti che sono impazziti che agiscono contro il proprio self in questo caso però quando c'è un'immunità noi abbiamo un abbassamento dei TS dei T suppressor ma anche dei T helper in questo caso i T helper invece rimangono a livello quindi non si è ancora espressa quella che è una malattia autoimmune quindi possiamo avere tante valutazioni da un pannello linfocitario e spiegato in alcuni termini non è così difficile perché tante volte queste sigle spaventano molto ma in realtà capiti i concetti fondamentali perlomeno alcuni parametri sono comunque fattibili da fare anche per qualsiasi medico e naturalmente solvoro su questo la parte che mi interessava comunque esprimere è questa che è molto importante diciamo che il SARS-CoV-2 ma forse anche e anzi questo lo sappiamo già anche in parte la proteina spike da sola determinano la riattivazione di cellule diciamo cellule terroristiche già presenti nel corpo umano faccio questa metafora nel senso che quali sono sono i virus della famiglia arpetica i virus della famiglia arpetica sono virus che diciamo cui veniamo a contatto tutti quanti durante la vita ma che rimangono all'interno di alcuni tessuti oggi c'è una vera e propria epidemia di questi aspetti e ho riconosciuto alcune sindrome particolari nell'aspetto clinico facendo anche terapia infusionale ossigenozonoterapia per esempio ho visto che una parte di riaccensione di dolori muscolari nella prima parte alta della schiena e delle spalle è dovuta a una riaccensione di quello che è il pain joint del citomegalovirus ma ci sono anche alcuni effetti sia della cosiddetta sindrome urente che è dovuta a una riattivazione dei macrofagi a livello periferico associata alla sindrome da intolleranza da estamina quindi ci sono dei quadri che oggi sappiamo quali sono e sono interessanti da vedere e soprattutto bisogna fare il pannello linfocitario per capire quali sono allora qui dovevo mettere EBV in realtà ho detto due volte citomegalovirus in realtà quindi c'è l'epseimbarche fa la parte del leone citomegalovirus l'impressione da herpesvirus herpes simplex di top 1 e 2 ho visto anche tantissimi casi di herpes che non avevo mai visto veramente dei quadri veramente impressionanti ma soprattutto da non dimenticare anche il parvovirus B19 che si sta riaccendendo e ultimamente parlando con due citopatologhe mi hanno detto che anche la riaccensione dei papillomavirus è altissima in questo periodo quali sono le sindrome che possiamo vedere sindrome associate a riattivazione virale in questo parlando con il collega che fa comunque psicoterapia è anche alcuni quadri mentali l'epseimbare legato al quadri psichiatrici molto particolari ma anche il citomegalovirus ma soprattutto la sindrome da fatica cronica e quadri clinici associati a stress psicofisico naturalmente uno stress psicofisico come quello che abbiamo vissuto nella pandemia il dolore il pericolo tutto questo tipo di situazioni è un altro grande abbassatore di quello che è l'immunità naturale quindi concorre a quello che è una riattivazione ulteriore di quello che sono possibili di questi virus e quindi qui vedete sono tantissimi ora le pubblicazioni l'epseimbare infection in covid-19 citomegalovirus infection in pazienti critici con covid-19 un epa simplex insieme al covid-19 parvovirus anche in covid-19 ma adesso mi manca la letteratura per quello che sono gli hpv che è ancora in corso d'opera i principali titoli da ricorpare sono questi sono gli anti ebna gli anti ea i vca quindi sono delle ig cioè non ricerco una infezione recente ricerco una riattivazione quindi un aumento dei ig di lunga data ma che aumentano molto di più quanto devono aumentare quindi vanno ricercati i titoli anticorpali quindi di immunoglobuline g ma per questo deve essere almeno cinque volte qui parliamo che i pannelli che sto analizzando la riattivazione compare anche di 20 30 volte spesso quindi parliamo di livelli che invece di esserci per fare un'altra metafora i servizi che cercano quei terroristi interno al corpo se normalmente sono uno diventano 20 per ogni strada quindi sono tanti tanti di più quindi il corpo difficilmente il corpo umano mette in moto delle risorse tale che poi non abbia un senso questo tipo di aspetto questa è l'ultima parte con cui chiudo la mia relazione perché gli antibiotici funzionano perché il covid 19 il SARS-CoV-2 è un batteriofago ma è un batteriofago assolutamente anomalo i batteriofagi normalmente hanno questa forma e sono virus a dna che inoculano direttamente il virus all'interno del batterio in realtà il covid non avevo modo di mettere anche tutte le foto di microscopia elettronica però praticamente si comporta come una sorta di disco volante e un istante dopo che plana praticamente sul batterio trasmette esattamente il suo rna non dna rna forma diversa molto particolare come comportamento il covid 19 quindi in realtà è veramente un comportamento estremamente strano ma questa è la ragione per la quale gli antibiotici funzionano così tanto e vabbè qui ci sono le altre ecco questo è io ho pubblicato anche io stesso insieme al professor Bortolini che è qui con me oggi che parlerà anche delle connessioni anche orosistemiche delle connessioni orosistemiche anche quanto riguarda la longevità ma avevamo già scritto che la prevotella che è un batterio non così cattivo in realtà la presenza di prevotella nel cavo orale che è legata alla sindrome metagolica di cui vi ha parlato prima Sclauzero naturalmente è una specie che poi facilita l'infezione comunque del cavo respiratorio quindi abbiamo i parametri infiammatori l'acqua extracellulare lo stress ossidativo i livelli di vitamina D e quindi abbiamo già tanti altri parametri per capire se una persona può avere o no questo e sono tutti parametri comunque da riassociare in realtà ci hanno aperto una finestra su quello che è anche la longevità con questo chiuso grazie dottor Cartà volevo anche solo dare una piccola precisazione che quella vitamina D di cui tanto spesso parliamo e che è importante viene bloccata dal paratormone quando siamo troppo in acidosi e il corpo non ha sistemi tampone per tamponare questa acidosi e va a demineralizzare l'osso bloccando la vitamina D quindi anche il dosaggio della vitamina D è un indice importante per stabilire i livelli di infiammazione stesso chiamerei il dottor Terranova come moderatore della prossima sessione vi è una piccola comunicazione di servizio i bagni sono giù dove c'era la segreteria per chi ha bisogno e sappiate che c'è un open coffee sempre aperto per chi momentaneamente vuol prendere qualcosa è a disposizione anche gli altri il programma arrivo allora dottor Terranova dottor Desogus Sara Cipollat e basta prego dottor Terranova a lei la moderazione grazie 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 Gianfranco dell'ospitalità e grazie a tutti la vostra presenza io come cardiologo rappresento ahimè la causa peggiore di interruzione della longevità malattie cardiovascolari che come sapete sono pur sempre la prima causa questa è la fine la prima causa di morte nel mondo occidentale e quindi ancora oggi in quest'ora sette persone hanno avuto un infarto cardiaco in un'ora in Italia solo in Italia e quindi rappresento più del covid purtroppo come abbiamo sentito a parlare benissimo e più di tumore più di qualsiasi altra cosa da 30 anni almeno io combatto ogni giorno in qualsiasi forma di prevenzione io e tutti i cardiologi per la prevenzione delle malattie cardiovascolari quindi rappresento ahimè questa triste faccenda ma motivo per cui tutti insieme possiamo fare qualcosa per migliorare questo trend è assolutamente possibile farlo top ten facts ossia quali sono le cose che allo stato attuale sappiamo con certezza in praticità nella prevenzione delle malattie cardiovascolari sono sette ne faccio sette perché ho sette minuti quindi le riduco a sette ma sono già molto interessanti io sono questo va bene lo sapete avete già visto ecco il fatto di appartenere alla società italiana di nutrizione la società italiana di aterosclerosi mi permette di affrontare l'approccio delle malattie cardiovascolari da due punti da molti punti diversi e quindi da vedere qual è il ruolo dell'alimentazione fondamentale ricordo io sono dell'università di Padova facoltà di medicina anche nelle vostre non esiste un esame obbligatorio di alimentazione per cui invece sappiamo benissimo l'importanza nella longevità cardiovascolare la genetica ha un ruolo fondamentale sappiamo recentemente scoperto un gene SDK17A che ha la capacità pensate un po' voi questo di poter agire sul DNA riparandolo questo è stato scoperto negli ultracentenari agisce riparando il DNA interviene e interviene nell'apoptosi cellulare e soprattutto ha un effetto contro i radicali liberi questo gene eccezionale in ambito cardiovascolare anche in molti altri ambiti sicuramente una valenza importante SDK17A ed è presente in maniera evidente negli ultracentenari e non nelle persone che non arrivano oltre i cent'anni qui è un ruolo sostanzialmente fondamentale la genetica ha un ruolo importante come lo ha il peso corporeo vi sto facendo la sintesi di quello che poi noi diciamo ai nostri pazienti chiaramente ovviamente non posso approfondire molto ma che è il concetto di divulgazione che dovremmo fare noi tutti che ci occupiamo di sanità nei confronti delle persone perché alla fine l'oggetto del contendere è sempre colui che abbiamo davanti la nostra scrivania peso corporeo non c'è ombra di dubbio che il peso corporeo io non conosco un ultracentenario che sia sopra gli 80 kg sicuramente non esiste una persona di 80 anni che sia obeso e questo perché la cultura già da giovani soprattutto anche in Italia in questo periodo in questi ultimi anni il 40% dei bambini è in sovrappeso in Italia il 26% dei bambini è in sovrappeso e addirittura il 13% dei bambini è obeso l'obesità infantile è impossibile quasi da debellare cioè difficilissima e induce come sapete bene sindrome metabolica insulino resistenza diabete ipertensione malattie cardiovascolari scusate cardiocerebrovascolari perché l'eziopatogenesi è identica infarto cardiaco e ictus come dico sempre nei miei eventi non sono scusate il lessico una malattia del cuore o del cervello assolutamente no l'infarto cardiaco non è una malattia del cuore è una malattia delle arterie del cuore il cuore un attimo prima stava benissimo l'ictus cerebrale un attimo prima il cervello stava benissimo prima dell'evento embolico o emorragico che ha generato l'ictus cerebrale non è un problema come la miocardite non è un problema dell'organo come la pericardite come l'epatite l'infarto non è una malattia del cuore delle arterie del cuore ecco il focus del contendere ecco dove dobbiamo orientare la nostra azione e sicuramente lo sappiamo il body mass index maggiore di 40 riduce almeno di 20 anni 20 anni avete capito bene la vita media questo è quello che dimostra sicuramente e per quanto riguarda quelle mie competenze sempre lì le malattie cardiovascolari sono correlate all'aumento di peso in senso negativo ma non tutto il grasso corporeo soprattutto il grasso periviscerale l'obesità centrale addominale infatti da lì la famosa metratura 102 centimetri per gli uomini 88 nelle donne il limite considerato molto semplice molto attendibile per avere la certezza quasi la certezza che esistono delle correlazioni ateromasiche a livello coronarico o in altri distretti vi ricordo che la teromasia presente nelle carotidi non è isolata cioè non è che l'aterosclerosi si forma solo qui e qui no è una malattia delle arterie è verosimile che se è una placca carotidea ci sia anche qualche alterazione strutturale dell'endotelio delle coronarie sicuramente ecco perché sono tutti i marker fondamentali alimentazione la capacità ricettiva non mi stancherò mai di dirlo del nostro organismo è sorprendente quando noi assumiamo una doxazosina per dire un farmaco che conosco molto bene 2 mg 2 mg hanno un effetto su un abbassamento imponente della pressione arteriosa perché il nostro organismo riceve benissimo qualsiasi cosa quindi 2 mg di pastiglia di farmaco hanno un effetto evidente 2 mg di molecola di pane non hanno un effetto evidente ma hanno la stessa capacità ricettiva perché il nostro organismo non fa distinzione se accettare o no una cosa piuttosto che l'altra solo che non lo vediamo il ruolo dell'alimentazione delle malattie cardiovascolari è basilare chiaramente con le dovute attenzioni per quanto riguarda poi le distorsioni mediatiche di cui parlerò spero alla prossima sessione quando parleremo anche del colesterolo e dei nutraceutici l'alimentazione io ho coniato questo termine pensatemi questa semplicità il piatto cardio chef perché ho studiato e ho visto che esistono delle pietanze che messe insieme statisticamente riducono la probabilità di infarto cardiovascolari statisticamente del 99% ho sommato le meta-analisi migliori più imponenti per quanto riguarda frutta secca legumi pesce azzurro cereali e verdura queste 5 pietanze insieme dimostrano statisticamente di ridurre la probabilità di infarto cardiaco del 99% è un percorso importante verso la longevità questo io penso di sì perché se l'interruzione della longevità è generata quasi sempre da malattie croniche degenerative che riguardano il sistema cardiovascolare intervenire subito con questo tipo subito quanto prima già a livello come vedevamo prima dei ragazzini associato al vino rosso cioccolato fondente tè verde e olio d'oliva aumentano vedete sotto le percentuali sempre da metanalisi ma perché questi alimenti sarebbe un discorso molto lungo sicuramente per la qualità degli antiossidanti tutti i micronutrienti che ci sono assolutamente in tutte queste pietanze e non perché per virtù di quale meccanismo strano e in parte le conosciamo attività fisica vi con luogo comune beh insomma 27% in meno di malattie cardiovascolari per chi fa attività fisica costante vuol dire 30-40 minuti al giorno quindi un'attività fisica costante il cuore sta bene quando viaggia sopra i 70-80-90-100 battiti ogni tanto non siamo fatti per andare a 60 battiti al minuto per tutta la vita anche se la frequenza cardiaca ha davvero un'importanza ma il nostro cuore è fatto per battere velocemente anche soprattutto in circostanze in cui ci può dare benessere questo è un altro degli studi che dimostra uno degli tantissimi studi che dimostra appunto come fare attività fisica riduca in maniera impressionante il rischio cardiovascolare più di qualsiasi a volte terapia la gestione delle emozioni nelle linee guida non nelle ultime ma anche nelle ultime del post infarto nella riabilitazione cardiovascolare fra tante cose attività fisica alimentazione c'è la gestione delle emozioni oggi sappiamo qualcosa di più sulla gestione delle emozioni è inevitabile che lo stress produca una serie di attività metaboliche negative ed è utile sapere che il nostro organismo è in grado di produrre un ormone come sapete bene di origine ipotalamica che è l'ossitocina che ha sicuramente il vantaggio di avere un fattore importante nell'ambito anche cardiovascolare ma ora sappiamo ancora di più l'ossitocina che pensavamo fosse solo un ormone sintetizzato da ipotalamo in realtà è sintetizzato anche dalle cellule muscolari cardiache quindi vuol dire che se noi riceviamo una carezza se qualcuno ci fa un abbraccio se accarezziamo il manto di un animale si libera ossitocina che non parte solo dall'ipotalamo ma parte anche dal cuore una carezza scalda il cuore è davvero un'addizione davvero interessante e l'ossitocina ha una grande capacità che è quella di vasodilatare ridurre la pressione arteriosa ipocolesterolemizzante e natriuretico quindi tutti gli effetti benefici per il sistema cardiovascolare quindi la gestione delle emozioni attraverso questa connessione ma ce ne sono molte altre è sicuramente un vantaggio avere perché le emozioni negative ce le abbiamo tutti l'importante è gestire le emozioni per avere un benessere ovviamente non è possibile evitare ahimè le cose spiacevoli la qualità del sonno abbiamo trovato che è fondamentale anche questa nella prevenzione nel benessere cardiovascolare quindi dormire bene siamo sempre sull'orientativa tempistica di 6-8 ore ma tuttavia è la qualità che è importante non tanto la durata la durata ha il suo valore ma la qualità sicuramente fondamentale questo è uno studio che dimostra che chi aveva una buona qualità del sonno aveva un rischio cardiovascolare sicuramente ridotto la frequenza cardiaca è questo l'oggetto con cui concludo la mia relazione è davvero impressionante perché la frequenza cardiaca ad esempio sappiamo bene è un luogo comune voi noi lo sappiamo tutti la frequenza cardiaca di un topolino 400 battiti al minuto che vive 4 anni di una balena 40 battiti al minuto 40 anni per non parlare delle tartarughe giganti 3 battiti al minuto 300-400 anni vedete come c'è una correlazione un asse che ascrive frequenza cardiaca longevità noi con la nostra frequenza cardiaca dovremmo stare circa a una vita media di 30 anni ed è vero i nostri fratelli primati le scimpanzee vivono 30 anni in realtà abbiamo sfasato questa scala ascendente questa diagonale e questo alcune fanno supposizioni spirituali perché siamo esseri speciali perché veniamo da un altro pianeta o perché per una serie di cause incredibili ma siamo fuori da questa metrica in parte forse dovuto anche per la nostra cultura la conoscenza la consapevolezza tutto quello che sappiamo nella nostra evoluzione a differenza ahimè degli animali che non hanno sicuramente la nostra consapevolezza ma hanno molte altre cose a volte migliori di noi e il fatto curioso nella frequenza cardiaca noi cardiologi utilizziamo spesso i beta bloccanti nel posto infarto perché riduciamo la frequenza cardiaca perché si è visto che la quantità di battiti cardiaci è uguale per tutto il genere umano non solo ma il genere mammiferi animali tutti hanno più o meno il numero uguale 10 alla nona che però viene distribuito nell'arco del tempo per garantire più o meno anni quindi 10 alla nona è il battito di tutti gli esseri viventi più o meno una media però è importante come viene distribuita 70 80 120 al minuto 400 questo determina la longevità è una cosa davvero curiosa e questo è uno studio che dimostra dove il 14% in meno della frequenza cardiaca di media in un uomo dà una longevità del 6% in più per arrivare poi come questo l'audio c'era un audio interessante non ha importanza questo grazie centenario che in Giappone sapete è una longevità più elevata nel mondo questa signora è grande a 103 anni adesso ancora viva ho saputo farvi vedere questo particolare nell'epoca romana era normale vivere fino a 30 anni la vita media era 30 anni ed era considerato 32 ed era considerato normale per poi arrivare andando avanti nel 1900 dove la vita media era di 60 anni e quindi noi cresciamo davvero in modo esponenziale in questo però il punto fondamentale adesso quando noi arriviamo a vivere anche fino a 78 80 82 84 dobbiamo arrivare in questo modo nella capacità ad esempio di non sentire di essere allettati di aver bisogno di assistenza è possibile scardinare questo trend e arrivare ad essere ottantenni ma in salute in qualità di vita soddisfacente e non purtroppo come ci capita di vedere spesso guadagnando appunto questa qualità di vita come ha fatto vedere prima benissimo in quella sua animazione Gianfranco lo scopo è quello di non arrivare così come dicevo immagini davvero raccappriccianti però è possibile invece arrivare a questo obiettivo per arrivare ad avere il cuore davvero come noi ce l'avevamo all'inizio della nostra vita quando era esente da qualsiasi patologia cardiovascolare e come la morte possa essere una cosa davvero naturale come la vita sicuramente di questo dobbiamo avvalerci della consapevolezza di avere la conoscenza e la consapevolezza di poter fare quelle azioni che possono determinare un benessere sulla base delle conoscenze appunto che abbiamo queste immagini servono a capire che esiste la consapevolezza di ognuno di noi su tutto ciò che facciamo per arrivare appunto ad avere un cuore sano meraviglioso come quello che doveva essere qui non è venuto però io vi ringrazio lo stesso detto ciò chiamo il prossimo relatore che dunque era qui ma non c'è buongiorno a tutti sono contento di essere qui e di aver accettato entusiasticamente l'invito dell'amico prima che collega Giofranco Vettorello mi sono sempre occupato di malattie vascolari nell'esercizio della mia professione quindi è qui un'occasione di partecipare con alcuni elementi che cercherò rapidamente di sommarizzare ovviamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità sa sappiamo tutti che cosa indica come benessere e anche la Costituzione italiana le richiama ovviamente la malattia diceva Seneca è una è la vecchiaia una malattia ma è infelice colui che non la vive è certamente così molti esseri viventi vivono a lungo e ci sono attualmente delle cose che sono diventate parametrali nella valutazione del stato della senescenza sotto questo profilo direi che diversi elementi tentano di dare delle linee guida e bisogna arminizzarli noi in Italia con questo evento di oggi stiamo dando un contributo relativamente a questo aspetto e credo che stiamo dando anche un contributo di tipo etico perché mentre prima si parlava soltanto di giustizia di accesso ai servizi sanitari e dei diritti dei malati oggi parliamo anche di razionamento delle cure sapete come l'economia è un elemento molto importante un'altra cosa che io credo sia significativamente da sottolineare è questa massima di Popper filosofo etico molto importante che il lavoro del medico è una palestra di incontro cooperativo mi pare che lo stiamo dimostrando qui però non dobbiamo dimenticare le dimensioni del servizio sociale nel quale il nostro lavoro si svolge che è anche di tipo industriale che deve essere di linee guida deve essere ovviamente fortemente scientifico e quindi medico perché quest'immagine il sistema cardiovascolare è oggi l'elemento di punta su cui l'attenzione degli scienziati si è particolarmente focalizzata relativamente all'aspetto di valutare quale sia l'andamento della senescenza sotto questo profilo vi ricordo uno di quegli elementi pragmatici dei medici dell'ottocento e dei primi del novecento che caratterizzavano la senescenza dell'individuo con due parametri vene sottili arterie grosse e questo era ovviamente legato a quello che voi certamente capite questi elementi iconografici che qui sto riportando che sono di tipo elettronico scientifico servono a sommarizzare quali siano le linee nuove di indirizzo scientifico sull'ambito delle malattie vascolari e che hanno portato a capire che evidentemente l'attenzione sull'endotelio vascolare è un elemento parametrale assolutamente importante per conoscere quale sia la modalità dell'invecchiamento stiamo parlando di una cosa che è assolutamente in divenire quindi un qualche cosa di cui oggi non possediamo né elementi diagnostici né elementi terapeutici questi elementi però ci servono oggi per capire quali siano le interrelazioni che anche i relatori precedenti hanno per me ricordato e che attraverso i contatti e le sinergie e le modalità di comunicazione interorganiche metaboliche sostanzialmente chimiche servono a focalizzare questo elemento la mortalità per 100.000 abitanti in Italia nell'arco degli ultimi anni è questa le malattie cardiovascolari hanno questa prevalenza mi pare che questo sia un elemento assolutamente incontrovertibile sotto questo profilo credo di potervi con questa immagine che simboleggia l'ingresso dell'associazione dei chirurghi inglesi quanto il sistema vascolare sia complesso questa è una gamba scheletrizzata e fatta con il sistema della ceroplastica inventato dagli anatomopatologi fiorentini nel 1400 500 per studiare l'anatomia dei vasi questa immagine simboleggia ho voluto con questa immagine simboleggiare quanto il cammino dell'uomo sia ovviamente correlato con la sua dimensione vascolare quante siano le domande che ci poniamo e quanto siano grandi le domande dei ricercatori e dei nuovi medici ovviamente siamo anche perfettamente coscienti che viviamo in un momento di rivoluzione industriale che viene chiamata convenzionalmente con la numerologia 4.0 bene credo che noi medici noi chirurghi dobbiamo abituarci a questo meccanismo e importare questo concetto del 4.0 questo albero che simboleggia quello che alcune religioni chiamano l'albero della vita altro non è che l'ensemble delle interrelazioni multiorganiche che l'organismo colloquialmente ha ovviamente molti di questi elementi sono già stati ricordati ve ne cito uno per tutti l'obesità da ragazzi e l'età vascolare che è l'epicentro di snodo di questo albero della vita tanto caro alla religione islamica ovviamente questo rappresenta quello che ho detto prima vene sottili e arterie grosse degli anziani e questa è la modalità di azione che stiamo cercando insieme di mettere anche qui sul piatto del nostro programma futuri avendo ben presente quale sia l'azione di management perché ce lo poniamo e che cosa vogliamo raggiungere abbiamo sentito parlare prima di un coinvolgimento di secondo livello ma che io metterei centralmente che è quello del management istituzionale solo così possiamo focalizzarci sulle norme e le leggi che ci possano indicare il cambiamento queste sono le teorie di Bervic che chiunque si occupa di ricerca scientifica sa e qui io credo che noi stiamo pensando bene quello che vogliamo raggiungere però dobbiamo mettere bene insieme la strategia per fare la possibilità di dare realizzazioni alla scommessa che insieme ci siamo prefissi senza mai dimenticare che il nostro è un lavoro pro sociale ecco quindi il significato di questa associazione che Gianfranco Vettorello ha ricordato la nostra è una professione di aiuto e sotto questo profilo quindi questa immagine che è dell'istituto Curie che mi piace ricordare per indicare proprio la modalità di collaborazione che questo gesto sottende dal punto di vista sotto questo profilo credo che sia importante che sottolineiamo anche un altro aspetto che in italiano la missione non va confusa con la mission sono due concetti assolutamente diversi però noi ce li dobbiamo dare entrambi dobbiamo darci la missione e dobbiamo darci la mission la missione non nel senso aulico dell'approvazione del medico ma la missione nel senso pragmatico della esecutività dell'obiettivo che vogliamo raggiungere qui io correrei un pochino per arrivare a un aspetto molto più importante saltando a pie pari su questo aspetto ma per focalizzare e richiamare la vostra attenzione sul fatto che ovviamente ho citato prima che si è capito che l'endotelio vascolare è un elemento epicentro uno snodo una pietra miliare dell'ambito valutativo della senescenza dell'individuo che è correlata in maniera assolutamente certa con l'età del suo sistema vascolare sotto questo profilo io credo che sia assolutamente importante quello che qui stiamo facendo e credo che sia assolutamente importante l'ultimo punto perché il risultato che ci prefigiamo di ottenere è un risultato dello scambio ma credo anche che chi lo sta esponendo sia corresponsabile del risultato perché deve dare delle notizie che siano assolutamente etiche e scientificamente certe quindi sotto questo profilo rimetto alla vostra valutazione etica ed esperienziale questo concetto vi ricordo anche che la spesa sanitaria nazionale attualmente rappresenta l'anno scorso il 25% del PIL italiano non è poco quindi credo che dobbiamo avere presenti questi due elementi della comunicazione che diventano elementi di comunicazione per raccogliere la soddisfazione del nostro paziente che oggi il mondo dell'economia chiama customer nel senso che è quello che l'acquista la compra io credo che la nostra attività e qui la stiamo realizzando sia una medicina d'iniziativa e quindi il paziente che l'economia chiama consumatore è al centro del nostro interesse solo così possiamo realizzare un aspetto pacifista come questa immagine vuole rappresentare ma dobbiamo anche avere la coscienza di poter esercitare con la nostra capacità dialettica ed espositiva una capacità di lobbying non lobbying in senso negativo italianamente inteso ma lobbying in senso anglosassone cioè di convincimento sulla scorta di elementi oggettivi scientificamente e galileanianamente dimostrati e dimostrabili e quindi condivisibili e in quest'ottica credo che quindi questo noi possiamo prefiggersi di ottenere ovviamente la memorizzazione del ricordo della triade di Virchow per quanto riguarda la comparsa di fenomeni acuti nel sistema vascolare è quanto mai necessario ricordare ovviamente con gli elementi che ci sottendono per quanto concerne l'aumento dell'età media ovviamente uno degli elementi che mi vede coinvolto professionalmente è questa l'estensione dell'indicazione chirurgica anche correlata ovviamente all'età ci sono delle categorie d'altro rischio queste immagini semboleggia l'arrivo di una tromba d'aria queste cose lo sono sicuramente ad altissimo rischio e soprattutto bisogna incominciare a fare una ricerca di massa sulla tromba ereditaria perché oggi in Italia non abbiamo dei dati statistici certi che è una di quelle cose che invece è un indizio molto importante della patologia vascolare con le sue anomalie ereditarie che ne indicano ovviamente la vetustà del soggetto credo che una delle cose importanti sia quello di dedicarsi nei soggetti che ne hanno bisogno agli elementi fisioterapici e solo così credo di poter indicare e attualizzare non essendo io un ricercatore di microscopio elettronico quali sono gli elementi che dobbiamo mettere in campo per vivacizzare e cercare di migliorare l'età mascolare dei soggetti che a noi ci rivolgono sotto questo profilo credo due cose pratiche a parte quelle dell'esercizio fisico io credo molto nell'esercizio e del percorso vascolare in acqua termale che è uno di quegli elementi secondo il metodo CNAIP che dà relativamente alle patologie vascolari periferiche di cui personalmente molto mi occupo un risultato molto importante tenuto conto delle componenti fisico-chimiche dell'acqua termale e che creano ovviamente la necessità di due percorsi differenti di temperatura che sono quelli che consentono anche i soggetti che non sanno nuotare essendo prevista soltanto una deambulazione e un trattamento di 20 minuti con 12 sedute consecutive ricordando quindi questi aspetti che presentano molteplici variabili con l'augurio quindi che questi soggetti che hanno fatto queste cose con noi che siamo lungimiranti possano fare delle lunghe passeggiate anche lungo le spiagge del Friuli grazie scusate questo microfono ecco allora dottoressa Sara Cipollat ci parla di programmazione riprogrammazione cellulare in ambito cardiovascolare mi scusi nessun problema grazie mille allora grazie a tutti grazie a Gianfranco per avermi invitata qui oggi io a differenza dei miei predecessori non sono un medico e quindi vorrei un attimo parlare da un punto di vista un po' più della ricerca scientifica di ciò che sappiamo della riprogrammazione cellulare allora abbiamo sentito già precedentemente che l'infarto del mio cardio a me avviene e cosa succede i cardiomiociti che compongono più o meno il 30% del nostro cuore gli viene a mancare l'ossigeno e quindi come conseguenza muoiono ci sono delle specie particolarmente fortunate tipo ad esempio vediamo che lo zebrafish è in grado di ricostruire e ristrutturare il proprio cuore anche quando il 20% dello stesso viene rimosso anche i topi appena nati sono in grado di ricostituirlo ahimè noi uomini e donne di oggi siamo un attimo più sfortunati perché perché dove vengono vengono tolti i cardiomiociti dove questi vengono persi si crea una cicatrice formata dalla proliferazione dei fibroblasti questo perché perché le cellule delle cardiache staminali hanno una ricapacità di riprodursi e di differenziarsi poi sia in cardiomiociti che in cellule vascolari estremamente bassa e soprattutto questa già bassa loro capacità viene attenuata con l'invecchiamento però che cosa succede ed è tantissimo che l'uomo che la ricerca cerca di utilizzare proprio queste cellule staminali cardiache per ripopolare il cuore dopo che è andato incontro ad un infarto il meccanismo attraversi i meccanismi attraversi i quali tale rigenerazione avviene sono ancora diciamo non completamente compresi sicuramente sappiamo che c'è un effetto autocrino nel senso che c'è un differenziamento a cardiomiociti e a cellule endoteliari sicuramente ma c'è anche un effetto paraclino che cosa vuol dire tutto ciò vuol dire che vengono rilasciate delle sostanze come ad esempio chemochine citochine fattori di crescita che permettono di aiutare le cellule che sono già presenti nel cuore a rigenerare aiutano anche l'angiogenesi locale riducono l'infiammazione e diminuiscono la fibrosi e quindi la formazione della scarse cosa sappiamo c'è una lunga storia non molto lontana abbastanza recente su tutte le ricerche che sono state fatte su appunto la riprogrammazione a livello dei cardiomiociti c'è stato il famoso Pieron Versa un italiano naturalizzato americano che nel 2001 uscì con quel famosissimo paper dove riuscì a dimostrare che cellule derivate cellule staminali derivate dal tessuto dal bon mauro delle cellule del topo era in grado di ripopolare e diventare cardiomiociti poi cosa succede beh c'è il 2008 con Yamanaka e il suo gruppo che sono in grado di riprogrammare le cellule umane derivate dal derma quindi dal sottocute in IPS quindi Induced Prodipotent Stem Cell attraverso i quattro fattori che da quel giorno noi più o meno chiamiamo gli Yamanaka Factors poi Yamanaka con Ieda nel 2010 sono riusciti a far differenziare i fibroblasti cardiaci in cardiomiociti utilizzando tre fattori in questo però mi raccomando nel topo poi dopo tre anni sono riusciti a fare lo stesso nell'uomo e quindi non solo più nel topo scoprendo che però dovevano associare quei tre famosi fattori trascrizionali altri due frattori cosa succede poi nel 2018 che una commissione istituita da Harvard ha diciamo definito che la maggior parte dei papers pubblicati da Pierin Versa e dal suo gruppo non erano diciamo reliable non potevano essere affidabili e quindi tuttora non si sa se prendere le cellule staminali e riportarle nel cuore nell'uomo possa o meno funzionare adesso quindi la ricerca continua dove si prendono le cellule staminali che poi vengono immesse nel cuore possono avere un'origine dal midollo spinale dal tessuto adiposo e quindi solo cellule mesenchimali stromali oppure possono essere progenitori cardiaci che risiedono all'interno del cuore stesso oppure molti lavorano su la riprogrammazione del tessuto cardiaco diretta che cosa vuol dire all'interno del cuore stesso e poi c'è tutto un altro fattore che è l'utilizzo di farmaci per fare in modo che la rigenerazione avvenga all'interno del cuore stesso quali sono diciamo gli approcci fondamentali che oggigiorno vengono studiati utilizzati per migliorare questa efficienza di riprogrammazione cardiaco innanzitutto sono stati studiati che ci sono dei fattori come il MIRNA in particolare il MIRNA 133 quindi un small interference RNA che è in grado di aumentare l'efficienza di riprogrammamento degli fibroblasti umani perché in qualche maniera è in grado di sopprimere l'attività fibroblastica stessa delle cellule poi che cosa abbiamo visto che ci sono cinque fattori abbiamo visto prima in grado di trasformare un fibroblasto in cardiomiocita e anche diciamo si potrebbe lavorare sulla quantità e quindi la relativa abbondanza di questi cinque fattori di trascrizione quando vengono immessi all'interno della cellula le condizioni delle culture cellulari quindi si è visto senza entrare troppo nei dettagli se volete magari ne discutiamo dopo durante il coffee break o in un altro momento e aumentando certe vie e diminuendole in altre riusciamo a compensare quindi aumentare il differenziamento cardiaco per diminuire invece la componente fibroblastica alcuni fattori epigenetici come BM1 ovviamente la diminuzione di tutta quella che è la componente infiammatoria e mi sembrava un aspetto interessante magari così accennarlo la meccanobiology quindi tutto quello che è la capacità della cellula di sentire la durezza della diciamo dell'appoggio su cui lei aderisce questo perché si è visto che il cuore in vivo ha una durezza attorno ai 10 chilopascal mentre il tessuto fibrotico che si forma dopo l'infarto del mio cardio c'era attorno ai 20 50 chilopascal e fate conto che le piastre di coltura normalmente hanno una durezza estremamente elevata quindi si sta cercando anziché di usare delle plastiche di usare delle matrici molto più soffici tutto questo è molto molto interessante ma potrebbe essere effettivamente utilizzato con delle applicazioni per l'uomo sicuramente si sta lavorando molto sui vettori virali cioè su quelle componenti che dovrebbero essere studiate per poi immettere i fattori di trascrizione nei fibroblasti o nelle cellule cardiache o dove vogliamo affinché loro diventino cardiomiociti sappiamo benissimo che l'intivirus e i retrovirus non vanno benissimo in quanto si possono integrare nel nostro genoma e possono indurre cancro o comunque andare ad alterare tutti quelli che sono i pathway normali di sviluppo della cellula quindi si sta studiando vettori virali basati sul virus di Sendai e ovviamente l'efficienza di tale riprogrammazione deve essere ristudiata rivalutata e va anche studiata e tali tecniche vanno riviste ed analizzati in magari modelli animali più grandi perché ovviamente il topo come ben sappiamo è un ottimo modello di ricerca ma anche molte limitazioni e poi c'è tutta la questione per cui la quantità di cellule che devono essere immesse in un cuore dopo un infarto del miocardio deve essere estremamente elevata affinché si possa avere un numero elevato di cellule da poter essere immesse tali cellule devono essere coltivate in vitro e sappiamo bene che le cellule coltivate in vitro vanno incontro ad un fenomeno che è quello della senescenza cioè dell'invecchiamento cellulare quindi si sta anche studiando come fare in modo di ridurre questa senescenza affinché si possano produrre cellule in grandi quantità senza che queste vada in incontro a invecchiamento e poi c'è tutta una parte di terapia cellulare della nuova generazione diciamo in cui si studiano vie diverse come l'utilizzo di vescicole extracellulari e di esosomi che sono normalmente creati e nonché rilasciati dalle cellule cardiache di cellulizzare le matrici extracellulari proprio per quel fattore di meccanobiologia di cui vi stavo che vi ho parlato prima e anche tutti quei quindi piccole molecole che possono aiutare il differenziamento cardiaco stesso grazie per la vostra attenzione grazie dottoressa Cipollat grazie molto bene abbiamo visto quindi abbiamo due minuti per le domande eventualmente abbiamo visto quindi come è possibile prevenire le malattie cardiovascolari con i fattori più importanti abbiamo visto compreso l'età vascolare abbiamo visto anche come il futuro possa essere rigenerante l'aspetto di questo tipo di cellule che sicuramente hanno un vantaggio spero auspicabile il punto è però non arrivare mai a tale considerazione cioè non arrivare mai ad avere un infarto cardiaco sicuramente importante vi ricordo ho sentito parlare il collega dell'endotelio che l'endotelio è un organo endocrino distribuito su 96.000 chilometri di reti tra vasi arterie vene in ogni essere umano ci sono 96.000 chilometri calcolati tra vene venuzia del sistema linfatico il rivestimento endoteliale è appunto su 400 metri quadrati in ogni essere umano e quindi è un organo endocrino paracrino che ha la capacità di secernere monossido d'azoto endotelina eccetera eccetera ma quindi è un organo che va considerato soprattutto nell'età vascolare come abbiamo sentito dal collega se c'è qualche domanda a riguardo nessuna domanda avevo io una domanda per il collega De Sogus se c'è un sistema pratico per comprendere perché forse mi è sfuggito l'età vascolare perché nell'ambito dell'endotelio abbiamo dei marker dei recettori che ci possono dare un'indicazione dell'infiammazione i V-CAM i CAM e i SELECTINE che sono tipicamente recettori di adesione dell'endotelio ma esiste una soluzione pratica come markers per capire la mia età vascolare grazie più che dal punto di vista laboratoristico dal punto di vista ecografico questo è l'elemento cardine che ci fa la carta d'identità di quel soggetto ci sono tre punti che sono importanti per noi uno lo studio del fundus oculare poi lo studio delle sue carotidi e lo studio delle sue arterie femorali con questi tre punti abbiamo gli elementi anagrafico situazionali di quel soggetto questo è molto importante dal punto di vista pratico nella quotidianità dell'applicazione chiarissimo grazie va bene allora se non ci sono altre domande passiamo alla sessione successiva Gianfranco io spero che il dottor Grassi che ha avuto un problema ieri in ospedale e che comunque adesso è in viaggio arrivi per la sua per le sue relazioni finali adesso io quindi chiamerei Cristina Lonigro che ci parlerà in questa sessione che riguarda appunto digiuno restrizione calorica e longevità della restrazione calorica e del digiuno una visione epigenetica prego buongiorno a tutti grazie per l'invito e ovviamente quando si incominciano a far sentire i languori dell'appetito a mezzogiorno iniziamo a parlare di restrizione calorica di restrizione calorica di digiuno sicuramente abbiamo sentito già dalle relazioni di questa mattina quanto sia importante l'alimentazione come fattore ambientale per la salute dell'uomo moderno che possa incidere sulla durata della vita e sulla suscettibilità a certe malattie per cui diciamo l'ago della bilancia verso uno stato di saluto uno stato di malattie e del suo rischio dipende da tutta una serie di fattori che comprendono fattori predisponenti come la genetica dei fattori modificabili appunto come l'alimentazione l'attività fisica dei fattori ambientali e dei fattori di tipo indipendente per cui se noi andiamo a fare un assessment dello stato nutrizionale di un individuo possiamo praticamente andare da un piano morfologico fino ad arrivare a un piano molecolare o a un piano appunto di DNA di SNPs e quindi fare sia un profilo un gene profiling di tipo epigenetico o di tipo trascrizionale o di genotyping questo chiaramente è stato permesso dall'aver conosciuto da essere arrivata alla conoscenza del completo sequenziamento del genoma umano e quindi di cercare di capire come la comprensione tra le interrelazioni che esistono tra la diversità genetica la funzione del DNA del genoma e le componenti dietetiche possano venirci incontro per capire come migliorare la qualità della vita umana e prevenire alcune malattie sicuramente tra i cambiamenti epigenetici e ricordo che i cambiamenti epigenetici sono quelli che riguardano non tanto la sequenza non riguardano la sequenza del DNA ma riguardano l'espressione dei geni del nostro genoma c'è sicuramente l'alimentazione per cui l'epigenetica della nutrizione è arrivata a studiare come l'alimentazione e alcuni alimenti regolano e influiscono proprio sulla regolazione dell'espressione genica quindi tutti questi campi questa è stata tutta la base diciamo per i campi di ricerca in campo nutrigenomico che vanno da cercare di capire come alcune sostanze comunemente presenti nella dieta agiscono proprio sul genoma umano o alterandone la struttura o l'espressione di alcuni geni come in alcuni individui in certe condizioni la dieta può appunto rappresentare una serie di fattori di rischio per alcune patologie e come alcuni geni che sono regolati dalla dieta possono quindi svolgere un ruolo importante nell'inizio della progressione o nella gravità di alcune patologie multifattoriali o croniche gli interventi dietetici quindi basati sulla conoscenza dei fabbisogni nutrizionali hanno permesso sviluppare di tutta quella scienza intesa come nutrizione individualizzata o target medicine di cui si sta parlando molto chiaramente negli ultimi anni infatti le reciproche interazioni le versioni genetiche sono degli adattamenti molecolari a pressioni evolutive che si sono estese nel tempo e la nutrizione rappresenta probabilmente il fattore ambientale più relaturo persistente e variabile che ha contribuito alla formazione al modellamento del genoma umano e quindi il cibo non va considerato soltanto per il contenuto calorico anzi da questo punto di vista solo lateralmente in quanto è soprattutto la risposta ormonale che controlla il suo che determina il suo controllo e l'espressione dei geni l'equilibrio acido basico che ne viene regolato ad avere gli effetti più importanti e quindi di nuovo questo bilanciamento tra l'interazione di geni nutrienti tra l'intake e il consumo di energia e la sociabilità genetica che c'è derivata dai nostri SNPs a fare praticamente appunto l'ago della bilancia verso uno stato di benessere o di malattia in cui sicuramente negli ultimi anni si è inserito anche tutto il ruolo del microbiota di cui sentiremo poi a parlare a seguito nelle relazioni successive e quindi abbiamo detto che il genome dell'uomo si modifica per effetto l'ambiente ma ci vuole appunto tantissimo tempo e infatti abbiamo esempi di come popolazioni come in Qatar o in Alaska quindi in ambienti estremi si erano adattati tranquillamente cioè si erano adattati a vivere al loro ambiente mangiando poco e come l'avvento diciamo del junk food o comunque dell'era moderna ha creato problemi di sovrappeso anche in queste popolazioni e lo stesso chiaramente sta accadendo di seguito a noi se volessimo immaginare una sorta di colloquio tra un genetista e una voce fuori campo potremmo dire che noi siamo nati raccoglitori e cacciatori quindi per spendere tanto e mangiare relativamente poco e quindi per avvicinarsi a uno stile di vita in cui siamo stati selezionati dobbiamo mangiare di meno e qui entra il concetto della restrizione calorica che chiaramente deve essere utilizzata a dovere e non a sproposito e quindi quanto occorre restringere per quanto tempo che cosa ci dice il nostro genoma sicuramente abbiamo tutta una serie di esempi di diete e di proposte da questo punto di vista che non so ovviamente entrare nel merito e che comunque sono tutte bilanciate sono tutte delle storie di piccole quantità giocano tutte tra il discorso della differenza tra un digiuno e la restrizione calorica e questo fa anche la differenza tra averne un beneficio oppure porre alle estreme conseguenze delle situazioni che non sono controllate chiaramente è una dieta che è stata definita preventiva perché proprio la restrizione calorica ci permette di allungare di diminuire diciamo di prevenire patologie degenerative e invecchiamento quindi allungare la vita e avere un effetto preventivo anche su certe patologie inoplastiche le diete minima digiuno quella di lungo ma per nominarne una di tante hanno delle schedule differenti come quella anti-aging e soprattutto la loro conoscenza ci ha permesso anche di capire quali sono i vantaggi quindi quali sono quei fattori indipendenti che non possiamo controllare quindi per esempio l'età e chiaramente non soltanto la dieta ma il fattore della multidisciplinarità e quindi dell'attività sportiva e del tipo di apporto di nutrienti che noi introduciamo con la dieta il meccanismo più noto diciamo uno dei meccanismi più noti dal punto di vista genetico e epigenetico è quello della regolazione chiaramente dell'insulin growth factor 1 che riduce mTOR che è un importante appunto è un importante elemento del pato che regola la motorità della sopravvivenza delle cellule e la sintesi protege la trascrizione di tutta una serie di pato che sono da stream e chiaramente questo è legato anche al discorso di restrizione calorica che non deve riguardare solo le proteine perché si è visto che mTOR non è stimolata soltanto dagli aminoacidi ramificati ma anche dall'insulina e quindi bisogna anche cercare di stare attenti ai carbodati all'alto ingegno di glicemico e mantenere invece una più alta quota di acidi grassi soprattutto quelli diciamo nobili cosa accade al nostro corpo quando si digiuna praticamente si ha quello che si intende ad un ringiovanimento degli organi perché l'organismo torna ad essere più dipendente resistente all'insulina e produce una sorta di sistema di stimolazione delle cellule staminali mandando in apoptosi le cellule che hanno già raggiunto un invecchiamento maggiore o che hanno accumulato delle mutazioni genetiche e questo avviene soprattutto durante il refeeding che è una delle fasi più importanti poi delle fasi di digiuno la carenza appunto di glucosio porta allo sviluppo dei corpi chetonici e l'aggiunta del deficit proteico fa sì che appunto si abbia una massiccia produzione di cellule staminali e quindi il ringiovanimento e la prevenzione dell'invecchiamento e ci sono vari diciamo il benefit tra il digiuno intermittente e l'estrizione calorica costante forse è un po' più a favore del semidigiuno proprio perché ha questa fase del refeeding in cui appunto il mima quello che è successo nella nostra evoluzione quindi dell'alternanza tra abbuffate e semidigiune quindi questo praticamente favorisce la reprogrammazione e lo sviluppo delle cellule staminali a conclusione quindi variazioni genetiche individuali possono influenzare il modo in cui un nutriente può essere assimilato metabolizzato conservato e descreto e quindi questo ci permette di capire come le interazioni tra nutrizione e genoma consentono di sviluppare diete personalizzate di influenzare queste raccomandazioni dietetiche e di definire soprattutto anche delle strategie di politica nutrizionale tenendo conto che la dieta restrittiva ed il digiuno possono aiutare a prevenire e a cunare delle patologie e a sostenere un approccio di vita che predilige la healthy spam life e non solo la life span quindi il benessere non soltanto la durata della vita e con questo ringrazio dell'attenzione dovremmo avere il professor Buonamici in collegamento ecco buongiorno professore buongiorno ecco perfetto e lascio la parola sugli alimenti funzionali prego bene grazie bene allora sugli alimenti funzionali ci sarebbe da parlare moltissimo quindi ecco diciamo che adesso faccio un breve accenno considerato anche il tempo a disposizione ma sul sull'argomento alimenti funzionali posso dire che si è aperto un campo di ricerche grandissimo e importantissimo basti pensare che molte ricerche ormai applicate derivano da studi di botanica dotati di particolari caratteristiche funzionali funzionali molti di questi botanica sono di origine tropicale subitropicale ma anche se disponiamo abbiamo di cultiva anche di piante spontanee in ambiente mediterraneo io l'ho potuto lavorare molto in questo ambito dato anche il mio indirizzo specialistico di agronomia tropicale e subtropicale indirizzo che mi ha portato spesso appunto in questi paesi in amazzonia ciaco paraguario venezuela eccetera dove ho potuto attingere proprio ad informazioni importanti e anche a realtà di studio che qui viceversa non avevo la possibilità di compiere attraverso diciamo i quali sono ho potuto impiegare determinati principi attivi in alcuni lavori che ho fatto e che sono brevettati comunque adesso passiamo a parlare proprio dell'aspetto degli alimenti funzionali un alimento funzionale racchiude in sé una particolare proprietà che oltre ad avere l'azione a contenere l'azione propria degli alimenti cioè nutrire ha anche la caratteristica di andare a svolgere delle funzioni una più funziona funzione fisiologica che poi va a determinare un'azione salutistica al nostro organismo in relazione a ciò faccio sempre riferimento a dei complessi che sono stati impiegati non mi riferisco chiaramente a quei alimenti definiti funzionali ma che non hanno poi una storia di studi adeguati e neppure di esperienze ma molte volte purtroppo ci imbattiamo in alimenti che sono chiamati funzionali ma che in realtà poi non hanno proprio le caratteristiche di funzionalità di un vero alimento funzionale studiato sperimentato e poi addirittura brevettato comunque in merito a ciò devo dire che attraverso una società la società di una start up che si chiama Food for Future di Milano abbiamo avuto modo di studiare determinati botanica e determinati alimenti che attraverso l'impiego di questi fitocomplessi di cui ho fatto riferimento precedentemente sono quindi definiti a pieno titolo alimenti funzionali faccio riferimento ad esempio a tutto il settore dei prodotti da forno che abbiamo studiato e che abbiamo anche brevettato un brevetto approvato anche a livello internazionale che sono stati sperimentati al CMR alla ricerca di Pisa e che hanno dimostrato delle azioni salutistiche molto importanti ecco riuscito per esempio le evidenze dei valori lipidemici in cui si è evidenziato un abbattimento del colesterolo del 25% un abbattimento del quadro dei trigliceridi in cui si è verificato un abbassamento del 15% e un innalzamento dell'HDL cioè dell'abolitoproteina ad alta densità che rappresentano il cosiddetto colesterolo buono che ha avuto un significativo alzamento e oltre a questo una cosa di rilievo assai importante è stato quello che nel corso delle sperimentazioni il CMR ha evidenziato un'azione sulla steatosi epatica del tutto imprevista quindi che è stata diciamo una serendipità per me che ha dimostrato un'azione di contenimento ma direi che ha completamente fatto scomparire la steatosi epatica in quanto l'azione è stata di bene il 92% sulla base di questa di questa evidenza io ho realizzato anche un integratore che si chiama Steatoplus che adesso è in produzione in Lussemburgo ma spero che presto sia anche a disposizione delle nostre farmacie considerando appunto i risultati ecco questi effetti documentatistici dal punto di vista scientifico sono stati frutto anche di una pubblicazione importante sulle riviste una rivista che si chiama scusa che mi è che giornale di cui se qualcuno può avere la curiosità di vedere possiamo anche direggiarla inviarla e diciamo ecco che questi risultati sono stati raggiunti grazie all'impiego come dicevo di alcuni architocomplessi importanti tra i quali posso citare per esempio ormai è divenuto di nuovo comune ma quando io ho iniziato a lavorare in questo ambito nessuno ne parlava di questo riso rosso che divene divene rosso proprio perché assume questa colorazione in seguito ad una fermentazione con unicite dal nome monascus da cui il nome ecco questo riso rosso l'aspetto importante è che durante la fermentazione si dà luogo alla formazione di un altro composto che si chiama monocolina K questa monocolina K è definita una semistatina anche se non ha nulla a che vedere con le statine di sintesi chimica delle quali non ha neppure nessun effetto collaterale questa comunque questa semistatina appunto monocolina K ha la funzione di andare a inibire un enzima epatico o meglio il 3-idrossi 3-metilcoenzima A glutarine coenzima A il quale ha la sua funzione è cioè è deputato alla sintesi del colesterolo ematico quindi questa statina in realtà questa simistatina scusate va a inibire questo enzima a inibirlo in modo tale che vada a produrre una quantità di colesterolo inferiore per cui il colesterolo si abbassa e la diciamo questo brevetto che deriva da questi botanical che sono di origine anche tropicali sono di origine prevalentemente tropicali ma anche mediterranea come appunto lo è il risorosso e dicevo derivano dall'impiego di questi fitocomplessi che ad oggi non sono stati sufficientemente studiati e quelli diciamo che derivano dalla foresta amazonica e da altri luoghi analoghi sono rappresentano dei tesori della delle foreste tropicali che ancora noi non conosciamo perfettamente anzi conosciamo siamo proprio direi alla punta dell'iceberg dietro a questa punta c'è un mondo infinito e dalle potenzialità enorme applicative proprio nell'ambito dell'alimentazione attraverso alfanzo ma anche nutraceutico quindi scusate riprendendo l'argomento dell'abbassamento del colesterolo attraverso l'indibizione dell'enzima ipatico volevo aggiungere un altro particolare importante che ha reso meritevole di brevetto anche negli Stati Uniti questo formulato che è quello ci sono medici tra voi potranno certamente comprendere meglio di loro che non lo sono che andando ad agire su questo enzima ipatico o almeno la letteratura medica scientifica riferisce ciò si può verificare un innalzamento della omocisteina ematica che sotto certi aspetti rappresenta un rischio forse stimato anche superiore a quello del colesterolo ora in riferimento a ciò è stato impiegato nella formulazione anche la pianta della medicago sativa medicago sativa praticamente quella che comunemente è conosciuta come erba medica che però diciamo a me è interessato particolarmente il suo contenuto in acido folico ed anche in acido medicagente bene questo acido folico derivante dalla medicago sativa va a svolgere l'azione di controllo sulla omocisteina ematica come riferivo è un fattore di rischio e che cosa va? va a bilanciare proprio la quantità di omocisteina va praticamente ad abbassare il suo livello questo come dicevo ha reso avere l'approvazione anche dagli Stati Uniti di questo brevetto questo per fare un esempio di come dove si può arrivare attraverso l'impiego del di questi alimenti funzionali e e anche di certe forme di applicazione di nutrascetti l'argomento come dicevo è molto vasto e potremo continuare anche a parlarne ma credo che il mio tempo stia per scadere per cui non mi addentro ulteriormente all'argomento ringrazio bene grazie al professore chiaramente ci sarebbe da parlare delle giornate intere lo faremo con la scuola di medicina della longevità darò la parola adesso a Marco Marchetti che invece ci parlerà di dieta chetogenica e longevità grazie prego buongiorno grazie per l'invito ti ringrazio veramente per l'invito sono veramente contento io mi chiamo Marco Marchetti lavoro presso il dipartimento di biomedicina e prevenzione dell'università di Roma Torvergato come ricercatore sono professore di chimica degli alimenti presso l'unica millus in Roma ti ringrazio per l'invito perché hai riunito diverse sensibilità diversi aspetti della stessa visione che possono collaborare insieme prima purtroppo non c'è stato modo di fare due domande volevo complimentarmi per il collega precedente quando ho parlato dell'angolo di fase perché è una stretta relazione con la sopravvivenza ma bisogna stare attenti io mi occupo di composizione corporea bisogna inserire il fattore tempo il fattore età perché negli anziani l'angolo di fase per effetto della disidratazione si alza comunque quindi non è detto che un più alto angolo di fase necessariamente corrisponda ad un migliore stato di salute fare complimenti a un relatore di prima che ha parlato della vitamina D quanto sia importante anche lì bisogna stare attenti perché il covid ha colpito più duramente gli obesi e noi sappiamo che gli obesi siccome la vitamina D è lipofila viene intrappolata nel tessura di poso semplicemente facendoli dimagrire liberano quantità di vitamina D senza bisogno di integrazione quindi a questo è importante quanto la sensibilità lo studio la cultura di ognuno di noi possa interagire insomma premesso questo perché erano domande che avrei voluto fare prima vado avanti ok vivere di più e vivere meglio questo articolo l'ho preso il 5 maggio pochi giorni fa ecco la dieta della longevità cioè noi siamo qui per parlare di longevità perché tutti vogliamo vivere di più e tutti vogliamo vivere meglio il punto è come si fa questa è la cosa difficile diciamo che è una storia che parte da lontano tutti quanti abbiamo fatto per quanto in epoca abbastanza distante il liceo quindi tutti quanti conosciamo queste tre figure mitologiche le moire io sono romano quindi preferisco chiamarle parca sono cloto atropo e lachesis cloto che tesse il filo della vita lachesis che lo misura e atropa che lo taglia ecco forse quello che è meno noto è che in realtà cloto è anche il nome di una proteina che è strettamente legata alla longevità la proteina cloto è strettamente legata alla salute renale e cloto in effetti per complessi meccanismi biochimici aumenta ad esempio il fattore di crescita dei fibroblasti per complessi meccanismi biochimici è legata strettamente alla longevità più o cloto più vivo a lungo ci sono tantissime in letteratura è presente una vasta letteratura su cloto appunto la sua cattiva inefficace insufficiente espressione è legata a diverse patologie e di fatto ad una minore longevità negli umani fra di noi il punto è che cloto la dea la parca la moira della longevità è strettamente legata alla salute renale e la salute renale come sapete viene influenzata dalla vita più viviamo più il rene comincia ad invecchiare dal mio punto di vista dal punto di vista nutrizionale è difficile utilizzare una dieta mediterranea perché ad esempio i reni vengono influenzati dall'uricemia della frutta gli ossalati presenti molti vegetali un eccesso di carboidrati può causare in pazienti diabetici problematiche problematiche renali dobbiamo stare attenti all'apporto di grassi alla qualità e alla quantità dei grassi che somministriamo logicamente all'apporto proteico sempre per migliorare la qualità della vita dei reni logicamente togliendo carboidrati grassi e proteine abbiamo un rene funzionantissimo cloto espressa ai massimi livelli ma moriamo noi quindi dobbiamo cercare una via diversa per aumentare la nostra longevità e qui siamo in difficoltà perché noi sappiamo chi vive più a lungo e i centenari sono sparsi lungo tutto il globo le blue zone vanno dai Loma Linda della California fino ai giapponesi di Okinawa passano tra i nostri sardi sicuramente i nostri marchigiani ma sono sparsi lungo il globo e tutto sommato dal punto di vista di nutrizione hanno poche abitudini alimentari comuni salvo due l'indice di adeguatezza mediterraneo il MEI index che è elevato presso tutte queste culture che non è la dieta mediterranea una cosa molto più bella più complessa e la restrizione calorica di fatto mangiano poco il punto è come ha detto la collega precedente quanto poco perché in realtà quella che viene definita come dieta della longevità cioè il digiuno di fatto migliora la qualità della vita ma ancora non siamo certi se aumenti la vita ancora c'è bisogno di studiare di conoscere questo perché noi sappiamo che il digiuno la restrizione calorica nelle sue diverse forme aiuta la vita ma non l'aumenta ancora ha effetti metabolici importanti insomma quindi diminuisce l'insulina aumenta il glucagone aumenta il GH insomma l'EGF1 viene diminuito quindi noi sappiamo gli effetti endocrini del digiuno e della restrizione calorica ma come abbiamo pubblicato l'anno scorso in questo paper in realtà il digiuno va modificato cioè noi dobbiamo cercare di cambiare io parlo dal mio punto di vista quindi di nutrizione clinica dobbiamo cercare di modificare quello che è il paradigma della dieta non qualcosa che toglie digiuno tolgo calorie o abbasso i nutrienti ma modificando nel paradigma analizzo la struttura della composizione corporea del soggetto del suo stato di salute vedo ciò di cui ha bisogno e evito la malnutrizione questo è il primo dovere di ogni nutrizionista indipendentemente dall'apporto calorico cioè cambiandone proprio il paradigma un modo per cambiare il paradigma del digiuno quindi evitando malnutrizione appunto la dieta chetogenica che di fatto è una sorta di digiuno modificato si digiuna perché si entra in chetosi effetto benefico ma si ha un apporto corretto di nutrienti in letteratura sono presenti in organismi minori in realtà studi sulla longevità studi sulla longevità in chetosi ancora non ci sono e sono in corso appunto di studi però c'è un fatto è che siccome sappiamo che è la restrizione calorica più che il digiuno ad allungare la vita in chetosi la restrizione calorica può essere protratta più a lungo perché lo stato di chetosi per effetto delle corpi chetonici che hanno un effetto anoresizzante centrale possono far sopportare lo stato di restrizione calorica più a lungo quindi se io riesco a scrivere un protocollo chetogenico rispettoso della massa muscolare della massa magra delle necessità metaboliche del soggetto lo posso protrarre con un bassissimo declinandolo con un bassissimo apporto di calorie per moltissimo tempo ad esempio bypassando concetti sbagliati errati datati come quello del peso ideale prima ad esempio abbiamo parlato dell'indice di massa corporea in una bellissima relazione allineandolo ad esempio con le patologie cardiovascolari in realtà più che l'indice di massa corporea è la percentuale di massa grassa che fa da trigger di patologie cronico-degenerative e quindi bypassa il concetto di peso di peso e di peso ideale e di indici di massa corporea ecco ad esempio in questo studio noi abbiamo dimostrato come in un protocollo very low calorie ketogenic diet quindi una dieta ketogenica a bassissimo apporto di calorie l'apporto corretto di proteine per preservare la massa muscolare di un soggetto è di 2 grammi di proteine ogni chilogrammo di massa magra è un concetto che trascende che cambia il paradigma del peso e l'apporto proteico parametrato sul peso e sul peso ideale perché il peso ideale di due soggetti diversi può essere lo stesso diversa composizione corporea ed è sbagliato questo concetto parametrandolo sulla massa magra che è tipica di ogni soggetto abbiamo dei valori corretti qui si vede si vede benissimo come la massa muscolare rimanga identica dopo due mesi di protocollo ketogenico a 600-800 kilocalorie perché la massa muscolare perché è la massa muscolare il vero indice di predittore di longevità negli adulti un adulto anziano è magro ma un adulto anziano non è sarcopenico è muscolare per quanto possibile noi sappiamo che la sarcopenia è un processo fisiologico inevitabile la dobbiamo prevenire se noi cerchiamo di scrivere una dieta che sia ipocalorica e che tagli indiscriminatamente i nutrienti sbagliamo dobbiamo cercare di scrivere una dieta ipocalorica ma con un corretto apporto di nutrienti principalmente proteici ma anche lipidici io mi occupo di chetosi quindi mi occupo di proteine grassi diete con apporti lipidici particolarmente antinfiammatori quindi ricchi di omega 3 con un corretto bilanciamento di acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6 danno diete qui ne abbiamo paragonate tre in questo studio di qualche anno fa in realtà che non muovono geni legati all'infiammazione quindi noi siamo in grado di scrivere delle diete chetogeniche effettivamente efficaci le abbiamo rassunta così è una dieta chetogenica italiana l'abbiamo nominata perché è fatta con prodotti del nostro territorio ha un introito calorico calibrato perché in funzione di quanto spende ogni singolo soggetto è dell'indicazione della dieta stessa può essere più o meno ipocalorica meno di 50 grammi di carboidrati al giorno perché è una dieta chetogenica cioè deve indurre lo stato di chetosi ha 2 grammi di proteine ogni chilogramma di massa magra line mass misurato con metodica di riferimento una densitometria a doppio raggio X ha un introito di grassi basato su acidi grassi mono e polinsaturi ad ampio documentato effetto antinfiammatorio ha un apporto corretto di vegetali e un'adeguata integrazione proteica e vitaminica per evitare appunto malnutrizione cioè cambiandone come ho detto prima il paradigma io ho cercato di essere veramente nei tempi perché erano veramente ristretti di questo discorso potremmo discuterne e chiacchierarne per ore normalmente in questi contesti si viene qui per cercare di risolvere questioni io sarei contento se avessi stillato in voi qualche dubbio perché dal mio punto di vista come diceva Roussel il problema dell'umanità è che gli stupidi sono sempre strasicuri invece gli intelligenti sono pieni di dubbi se dopo questo incontro questo intervento abbiamo più dubbi di quanti con cui siamo entrati ho fatto il mio dovere abbiamo fatto veramente scienza vi lascio i miei recapiti per incrementare la nostra conoscenza e vi ringrazio veramente grazie mille grazie a te Marco ovviamente il limite di questo convegno sono le relazioni un po' ristrette ma questo dà il senso proprio della volontà di mettere insieme tante cose e poi di dare uno spunto che poi potrà essere sviluppato in altri contesti lascio chiudere con i closing remarks al professore Davide Grassi che è arrivato e lo ringrazio in volata da stamattina prego grazie ovviamente ringrazio il dottor Vettorello per l'invito e ringrazio anche il relatore che mi ha preceduto perché di fatto iniziare a parlare di malnutrizione quando in realtà si mangia male o ci si nutre male è il motivo stesso per cui in realtà la stessa agenda 2030 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indica il contesto di malnutrizione tra gli obiettivi fondamentali per migliorare il mondo e tra gli obiettivi per migliorare il mondo mette ovviamente il concetto di malnutrizione dove c'è un'area del mondo che in realtà mangia male perché ha un difetto di nutrizione tutta un'area del mondo che è quella nostra che in realtà mangia malissimo perché è malnutrita rispetto alla qualità e alla scelta dei nutrienti e in questo specifico ambito sappiamo come la condizione specifica dell'ambiente o della nostra condizione di base è quella del genere risparmiatore l'ambiente agisce in maniera pessima con le calorie la sedentarietà l'eccesso di sodio ma con una serie di componenti che poi sono in grado di indurre stress ossidativo ed attivare tutti i processi fisiopatologici che inducono poi l'espressione specifica dei diversi fattori di rischio cardiovascolare cardiometabolico che poi in un contesto specifico non tanto in termini quantitativi quindi di quanto vivremo ma soprattutto in termini di healthy aging e quindi di possibilità di invecchiare bene avranno un ruolo decisivo sia sullo sviluppo di problematiche cliniche complesse sia sugli eventi cardiovascolari e ovviamente rispetto alla condizione dell'exitus finale quindi il target fondamentale in termini di protezione cardiovascolare ma insomma anche di healthy aging non può che essere ovviamente ottenuto in prevenzione primaria agendo sullo sviluppo sull'espressione possibile dei diversi fattori di invecchiamento dei suoi fattori di rischio in prevenzione secondaria laddove si sia già generato una condizione di danno ma sappiamo perfettamente come in realtà non possiamo non avere assolutamente alcun beneficio laddove non fossimo in grado di agire sui meccanismi che poi peggiorano i fattori di rischio cardiovascolari e come in realtà la condizione di stile di vita pessimo che abbiamo anche in associazione con dieta quotidiana e attività fisica in realtà la fanno da padrone in questo ambito la malnutrizione degli Stati Uniti indica questa è una authority dell'americana che fa delle survey per vedere quanto la società americana mangia male e quanto in realtà siamo distanti dalla possibilità di avere una condizione salutare attraverso la nutrizione e questo era una survey del 2015 in cui loro dicono guardate che c'è il sodio ovunque nel cibo che viene mangiato dalla popolazione guardate che la popolazione mangia snack e dolci costantemente guardate che solo l'un per cento degli zuccheri che vengono dalla dieta vengono dalla frutta che dovrebbe essere l'unica fonte di zuccheri liberi assunti normalmente con la dieta mentre in realtà gli americani dicono solo l'un per cento deriva dalla frutta e tutto il resto deriva da cibi arricchiti oppure da bevande zuccherine e trovano una soluzione straordinaria che veramente fa venire i brividi dicono dite a tutti di bere acqua incredibilmente c'è la scoperta veramente dell'acqua calda oppure comunque dell'acqua in un modo o nell'altro dicono fate bere acqua a tutti perché è sana perché costa poco perché ha zero calorie e fate in modo che venga messa l'acqua in tutti i luoghi possibili e immaginabili di socializzazione nelle scuole nei posti di lavoro nei luoghi dove si fa sport e quindi fate in modo che questo possa essere corretto dopo cinque anni questa è la stessa serve la stessa come dire l'ineguida la stessa commissione che cerca di verificare la stessa identica cosa nel 2020 dice non solo non abbiamo corretto nulla ma abbiamo peggiorato ulteriormente i bambini sono il gruppo di soggetti che sono particolarmente a rischio perché iniziano ad avere abitudini errate sin dall'adolescenza e quindi portano avanti questo tipo di condizione e sappiamo e vedremo pure successivamente come l'impatto in questa fase poi sarà alla base di uno sviluppo negativo e quindi di invecchiamento negativo cioè le basi per un invecchiamento sano in realtà si hanno in questa specifica fase qua e la cosa particolarmente interessante che indicano come marcatore paradigmatico di una condizione critica rispetto alla nutrizione nella società americana è che anche le donne in gravidanza che sappiamo quanto siano come dire ossessivamente attente alla condizione di salute in quella fase specifica per la possibilità insomma di proteggere il nascituro hanno una condizione specifica di come dire errori nutrizionali che persistono e che si preservano senza modificarsi anche durante questa fase così critica della vita della salute della donna quindi sappiamo perfettamente come ormai questi sono dati che indicano come le bevande zuccherine sono in grado per frequenza e per quantità di aumentare in maniera costante e come dire dose dipendente l'espressione di tutti i fattori di rischio cardiovascolare quelli metabolici come l'obesità quella come l'alterata glicemia di giuno e l'espressione risulta essere assolutamente proporzionale sia per frequenza durante la giornata sia per quantità di bevande assunte durante la giornata di contro credo sia stato sostenuto ma che in realtà abbiamo buoni spunti per dire che la dieta mediterranea abbia la capacità di ridurre la mortalità per tutte le cause la mortalità cardiovascolare la mortalità per cancro e di rallentare i processi neurodegenerativi che sono la base ovviamente sia dell'invecchiamento cerebrale ma indicatori marcatori specifici anche della fragilità e della possibilità di avere un invecchiamento sano da parte dell'individuo tuttavia sappiamo pure che in realtà non solo in prevenzione primaria ma anche in condizioni estremamente critiche come in pazienti che abbiano già avuto una sindrome coronarica acuta la presenza o l'innesco di una sana attività fisica così come l'innesco l'introduzione di un adeguato modello nutrizionale ha ancora la capacità di essere estremamente efficace nell'indurre e nel ridurre un ulteriore rischio di infarto un ulteriore rischio di stroke un ulteriore condizione di vantaggio rispetto all'ambito cardiovascolare e sappiamo pure perfettamente come esista una relazione diretta tra l'indice glicemico e quindi tra l'introito di zuccheri sul carico glicemico l'indice glicemico e le condizioni di peggioramento del quadro cognitivo dei soggetti quindi peggiora in maniera o meglio si preserva in maniera fondamentale la capacità di avere una buona funzione cognitiva una buona capacità intellettiva man mano che si avanti con l'età laddove vi sia una condizione di controllo della glicemia e una condizione di piuttosto una condizione di svantaggio laddove vi sia un eccesso di introduzione di zuccheri soprattutto zuccheri liberi sono perfettamente d'accordo non posso nei closing remarks come dire rivendicare il ruolo specifico che sta assumendo recentemente la capacità della dieta chetogenica di avere una risposta straordinaria perché in fondo sappiamo che tutte le condizioni specifiche che siano legate alla restrizione calorica che siano anche sostanze specifiche che poi sono introdotte nella dieta mediterranea come il resveratrolo e i flavonoidi che poi vedremo sono forse probabilmente tra i micronutrienti più importanti a caratterizzare il vantaggio che deriva dalla dieta mediterranea attraverso una serie di meccanismi soprattutto TORC1 le azioni sulle sirtuine e FOXO sono in grado sostanzialmente di modificare tutti quei parametri che poi sono esattamente in linea sia con la longevità che con una condizione di sano possibilità di invecchiare e questa condizione risulta essere assolutamente mediata in maniera specifica dalla restrizione calorica dalla mediazione ovviamente dell'insulina dal blocco del processo dell'insulina anche attraverso l'IGF1 ma anche attraverso la produzione di corpi ketonici e non è neanche un caso se effettivamente questi sono dati che derivano soprattutto da come dire un esercizio che deriva da studi sperimentali ma che in realtà ha anche iniziato ad avere evidenze chiare dal punto di vista clinico tre o quattro studi di fatto sull'uomo iniziano ad esserci soprattutto su tutte quelle che sono l'effetto dell'idrossibutirrate quindi la somministrazione anche di ketoni esogeni quindi se noi riusciamo a produrli di nostro bloccando il sistema dell'insulina e favorendo una dieta chetogenica nutriamo sicuramente un vantaggio ed è quello che otteniamo con la restrizione calorica e che mirabilmente il dottor Marchetti ha mostrato precedentemente ma come in realtà anche con la somministrazione di ketoni esogeni quindi ad indicare che effettivamente questo è un processo che può essere attivato e può simulare un processo vantaggioso che esiste e che sembra che stiamo scoprendo adesso ma che in realtà dovremmo conoscere da lungo tempo vedete come in realtà abbia la capacità di agire su tutti quei meccanismi che sono noti e che abbiamo visto anche in precedenza rispetto alla condizione dell'invecchiamento e della longevità e hanno sostanzialmente la capacità di agire appunto sull'invecchiamento sulle malattie età correlate sulla durata sull'aspettativa di vita e soprattutto su quelle condizioni soprattutto disfunzionali in termini cognitivi che poi caratterizzano le fasi più critiche in termini proprio di qualità di vita di disagio sociale di peso anche familiare rispetto ai pazienti che poi vanno incontro al declino cognitivo avanzato quindi l'invecchiamento sano diciamo può essere sicuramente rappresentato attraverso la correzione dello stile di vita e attraverso diversi modelli che sembrano essere sicuramente derivanti anche inizialmente dalla dieta mediterranea ma abbiamo visto come gli sviluppi rispetto a questa serie di condizioni portino a tantissime novità cioè non è un caso nemmeno che si inizi a pensare che in realtà la dieta chetogenica non debba essere nemmeno impostata necessariamente in termini di perdita di peso se il paziente obeso io posso avere ovviamente un vantaggio perdendo peso bloccando l'insulina avere un vantaggio specifico rispetto a quello che se ne consegue in termini di perdita di peso di miglioramento dell'insulino resistenza e di effetto relativo all'idrossibutirrato ma teoricamente dobbiamo anche immaginare e questo lo stiamo veramente scoprendo anche grazie agli studi fatti vedere precedentemente dal gruppo di Napoli e da chi studia questo argomento in maniera quotidiana di come in realtà la chetosi possa avere una serie di vantaggi indipendentemente dalla perdita di peso e questo dobbiamo comprenderlo perché effettivamente sembra avere delle prospettive in termini sia di lungimiranza di aspettativa di vita e di miglioramento dell'invecchiamento quindi ovviamente i meccanismi che conducono alla comparsa dei fattori di rischio e del danno d'organo cambiare stile di vita il nostro attuale risultato estere letale e usare alimenti farmaci o alimenti farmaci che possono essere in grado di modificare la patologia e quindi il percorso degli eventi grazie per l'attenzione benissimo grazie siamo anche nei tempi più o meno quindi entriamo nella prossima sessione che è quella dell'orologio biologico dei biomarkers che ci possono indicare differenze tra età cronologica ed età biologica inviterei dottor Max Calderan che tanti conoscono come esploratore estremo che ci parlerà appunto di biomarkers grazie grazie a te se lo ha appena accennato io in realtà sono qui in veste di esploratore sono un esploratore desertico ho 14 record per aver attraversato deserti inesplorati l'ultimo è stato da 1100 chilometri in Arabia Saudita ho aperto la Calderan Line che adesso è nei libri di storia perché sono qui perché a parte la grande amicizia e la stima reciproca che mi lega a Gianfranco io lo chiamo Gianfranco non lo chiamo dottore perché abbiamo ritenuto ci fossero e ci sono sicuramente delle grandissime analogie tra quello che io faccio come attività sportiva estrema usurante e quello che può essere delle parallelismi con persone che in realtà non fanno gli atleti e dico questo basandomi anche sul fatto che la mia esperienza nasce nel mondo farmaceutico a seguito della quale poi ho aperto in condivisione con un biologo molecolare un laboratorio di analisi genetiche microbioma intestinale e analisi ormonali e salivari che all'inizio utilizzavamo per me quindi c'è questo background ora la cosa è fondamentale e volevo mostrarti alcune slide che non sono sicuramente funziona da che parte si perde ecco qua di qua ma ecco qua volevo mostrarvi alcune slide dove si parla essenzialmente di marcatori che sono interessanti di valutare nel termine che sono assolutamente nella direzione dell'infiammazione innanzitutto c'è un'attività fisica usurante o comunque in attività estrema prevede degli sforzi estremi che sono di tipo metabolico essenzialmente quindi ci sono dei marcatori che devono essere rispettati sia da un punto di vista di prevenzione che da un punto di vista di attuazione di un protocollo ora è interessante notare come da un punto di vista genetico questa è un'analisi X di un'analisi genetica predittiva a cui abbiamo sviluppato le singole SNPs per andare a vedere quali polimorfismi potevano essere coinvolti da un punto di vista metabolico in un atleta che svolge attività di estrema estrema ripeto si intende un impegno metabolico che è al di fuori di ogni range studiato per quello che riguarda qualunque tipo di patologia perché sono diverse proprio le premesse allora possiamo evidenziare qui come da un punto di vista metabolico ci possono essere dei polimorfismi favorenti oppure altri che remano contro la performance fisica che sottolineo per noi atleti ad elevato profilo risulta essere una performance cellulare estrema e molto impegnativa perché se da un punto di vista metabolico un'attività estrema produce determinate variazioni cellulari ad attività estremamente estreme perché c'è un fattore di fatica che viene protratto nel lungo periodo le cellule naturalmente rispondono a leggi che sono completamente diverse anche nel merito della rigenerazione in atto durante lo sforzo estremo sia nell'ambito della rigenerazione cellulare quando lo sforzo è stato completato ora vado avanti velocemente la cosa più importante in assoluto è l'assorbimento di micronutrienti ora da un punto di vista di markers arriviamo dopo questa slide che però vorrei un attimo descriverli perché è molto interessante quando valutiamo con delle analisi per esempio che ne so il DROM test il TNF l'interleukina 6 abbiamo un dato un dato che se viene alterato cerchiamo naturalmente di compensare o cercate voi di compensare dando giustamente degli integratori facendo delle terapie addirittura endovena di vitamina C eccetera però c'è un dato fondamentale che non tutti i pazienti possono essere o atleti possono essere così avere una grande compliance per infilarsi un ago in vena o farsi dei cicli di flebo a volte si ricorre molto semplicemente alla terapia orale ho sentito degli interventi molto interessanti nel senso dell'alimentazione dell'alimentazione chetogenica dell'integrazione eccetera però se c'è una carenza o una mancanza di assorbimento di micronutrienti già su base genetica quindi con dei polimorfismi che sono variati è chiaro che rischieremo per una attività importante fisica e io personalmente non vedo differenze tra un soggetto con una sclerosi avanzata e me in deserto perché l'attività è comunque estrema in ambi due i casi per un corpo quindi se già in partenza non si tiene conto di quello che può essere una predisposizione del soggetto ad assorbire male dei micronutrienti già questa è un'indicazione molto importante naturalmente ci deve essere anche l'ambiente perché sapete che comunque in questo caso biomarkers genetici incidono mediamente sul 20-25% 50% è dato dallo stile di vita 20-25% dall'ambiente il classico esempio predisposizione ai tumori ai polmoni fumo due pacchetti di sigarette abito a Shanghai non ci vuole tanto per capire che ti arriverà un tumore ai polmoni se una predisposizione genetica a tumori ai polmoni abito a Merano 2000 ho una malga con delle mucche bevo il latte e il cibo biologico mangio questo è difficilmente mi verrà e non fumo difficilmente mi potrà venire un tumore ai polmoni però questo è un aspetto molto trascurato e cioè o meglio ne viene tenuto in considerazione senza abbinarlo ad altri tipi di markers che sono riferiti per quello che riguarda l'attività estrema essenzialmente all'ambito dell'infiammazione solitamente durante le analisi del sangue che ho fatto in tanti anni in tanti studi San Diego in California addirittura per la privazione del sonno CNR di Pisa qua Udine addirittura ho fatto uno studio per la privazione del sonno 12 o 15 anni fa visto che nelle mie esplorazioni faccio anche 100 ore senza dormire eccetera solitamente si tengono in considerazione elementi che sono giusti per carità sono assolutamente giusti faccio un esempio su tutti la PCR PCR 0 la persona non ha infiammazione in realtà nel mio caso si è vista molte volte che pur avendo tutti i parametri ematochimici a posto avevo anche la PCR 0 ma avevo tipo un interlochina che era 35-40 un TNF che era 70 o all'opposto addirittura era andato vicino a 0 perché probabilmente il mio sistema immunitario è andato in crash come si dice e non viene mai considerato o considerato poco quello che non si vede quello che non si vede rappresenta per me la differenza fondamentale allora ecco che nei fattori di biomarkers a livello di infiammazione devono assolutamente prevenire nel medio e lungo periodo quello che sono degenerazione dei tessuti più importanti del corpo in primis il tessuto nervoso secondo il tessuto muscolare perché se c'è in atto una degenerazione silente di questi tessuti e noi non teniamo conto di questi fattori di questi markers che sono da una parte genetici dall'altra parte sono analisi comuni ripeto IL6 faccio un esempio TNF il DROM naturalmente in tutte le sue forme BAP test e via dicendo sarà una battaglia comunque persa a prescindere perché se non si mettono insieme queste cose cioè ho un markers che mi dice con una predisposizione all'infiammazione ho dei valori alterati chimici ematochimici che mi dicono che è in atto però il paziente l'atleta non lo percepisce e in più si assorbono male dei micronutrienti quindi anche l'integrazione data per via orale non trova sfogo in una completa utilità di quello che viene somministrato beh allora è chiaro che si rischia di andare incontro a quello che non è proprio un successo terapeutico per un atleta che deve performare però naturalmente quando io finisco le mie esplorazioni come tanti altri che fanno altre attività sportive estreme tolto la veste dell'esploratore e dell'atleta abbiamo una vita normale e siccome l'obiettivo ho visto degli interventi interessanti su battito cardiaco per esempio è vero non ci sono persone che superano non mi ricordo 80 kg che sono andati sopra ai 100 anni ma io non ho mai visto atleti che hanno performato nella loro vita che sono andati oltre i 100 anni non ne conosco non ne ho mai conosciuti probabilmente il battito cardiaco nostro è stato messo sotto pressione per tante volte e probabilmente penso anche non compensato con un opportuno intervento in termini di infiammazioni io ci sto lavorando nel mio piccolo naturalmente con quello che sono gli strumenti perché quando poi si va nel termine dei consigli qua ci sono alcuni consigli che vengono dati alimentari dieta ketogenica eccetera però vi ricordo una cosa io ho trovato la cosa più difficile che ho provato nel mio piccolo quando le persone mi chiamano per avere dei consigli delle cose sono di fatto un preparatore atletico la cosa che ho trovato difficile è riuscire a trasferire alle persone il concetto di privazione chiedere a una persona di togliere completamente gli zuccheri per 30 giorni per esempio diventa una mission impossible e allora a questo punto dobbiamo mettere in atto delle strategie di comunicazione voi avete una grande responsabilità in tal senso strategie di comunicazione con le persone che avrete di fronte in cui avrete un grande affare per riuscire a trasferire il concetto che se al momento non senti dolore se al momento non ti stai male fatti comunque queste analisi cerchiamo di scoprire se c'è qualcosa che tu non sai ma che lavora in remoto e penso questa sarà la sfida più grande però il test base che io faccio un pochino con tutti e poi chiudo è proprio questo mi chiedi soluzioni vuoi andare ad un medico a chiedere soluzioni benissimo chiedi alla scienza soluzioni ok allora prova a stare intanto 30 giorni senza zuccheri ripetiamo dopo 30 giorni questa tipologia di analisi quello che ho detto prima gli L6 di ROM e DNF sicuramente dei valori saranno cambiati questo lo parlo per esperienza di atleta estremo e da lì poi eventualmente voi avete gli strumenti naturalmente a disposizione per riuscire a completare in tutti i modi dieta alimentazione integratori profondimenti attuali ulteriori per arrivare a una soluzione 10 secondi ancora ho sentito un altro intervento in cui si parlava di natura stare in natura è impensabile soprattutto dopo questi due anni che una persona possa trovare un equilibrio anche ormonale anche in termini di neurotrasmettitori se non c'è un ritorno all'aria aperta se non c'è un ritorno a camminare su un prato se non c'è un ritorno a respirare l'aria del mare e invitate le persone che voi seguite che siano atleti estremi o siano persone che svolgono attività d'ufficio a tornare a riappropriarsi di un qualcosa che in questi due anni probabilmente abbiamo perduto io per fortuna non l'ho fatto perché sono abituato a distese molto più grandi però questo è l'invito grazie per l'attenzione grazie Max che oltre a essere un esploratore è anche un grande comunicatore adesso darei la parola di nuovo a Sara Cipollat che ci parla dei biomarkers epigenetici e l'età biologica prego rieccomi purtroppo io non attraverso i deserti ma mi piacerebbe quello che cercherò insomma un attimo di fare brevemente visto anche l'ora che ci avvicina al pranzo è di delineare un attimo con voi che cosa sappiamo sui biomarkatori epigenetici e l'età biologica ne abbiamo discusso tanto anche oggi della differenza sostanziale che c'è tra l'età anagrafica quindi dal giorno in cui sono stato messo al mondo ad oggi e l'età biologica quindi quant'è l'età che il mio stesso corpo dimostra nonché la mia mente per tanto tanto tempo tutti quanti credevano che l'invecchiamento fosse determinato solo e puramente da fattori genetici a controprova di ciò c'è stata la scoperta che la mutazione di DAF2 che corrisponde al nostro IGF1 fosse in grado di aumentare del doppio la vita di C. elegans col tempo poi studiando e ampliando le nostre conoscenze ora ben sappiamo che ci sono vari e svariati meccanismi molecolari e cellulari che vanno a determinare l'invecchiamento quelli che anche prima Gianfranco ha introdotto quindi adesso conosciamo e parliamo di nove hallmarks of aging raggruppati in tre diverse categorie e tra cui i quali vediamo indicato qui appunto le alterazioni epigenetiche andremo durante questo toica a vedere come l'invecchiamento non è solo accompagnato da alterazioni epigenetiche ma anche in parte indotto da tali alterazioni stesse questa mi piaceva questa immagine che ho trovato in quanto è una linea del tempo che rappresenta alcuna e non tutto ovviamente delle principali scoperte nel campo dell'epigenetica e dell'invecchiamento e vediamo come il termine epigenetica quindi sopra la genetica fosse stato coniato da Waddington ben ancora prima della scoperta della doppia elica del DNA e vediamo che lui rappresentava diciamo l'epigenetica come una serie di avvallamenti e biforcazioni nella valle nel campo sterminato della genetica e quindi della determinazione dell'espressione di tutti i nostri geni vediamo qui alcune scoperte di cui appunto vi ho ad esempio menzionato prima come l'IPS SELS e così via e diciamo che sicuramente l'identificazione di biomarkers dell'invecchiamento che possano essere veri e che possano essere credibili è un fattore determinante nella ricerca scientifica sull'invecchiamento tra i vari marcatori epigenetici che sono oggigiorno conosciuti abbiamo la metilazione del DNA cosa succede viene appiccicato un gruppo metilico alla base citosina alla quale è seguita una base guanina e che si chiamano appunto i CPG sites questi siti che ne abbiamo più di 28 milioni nel nostro genoma quindi direi abbastanza sono normalmente raggruppati tra di loro in clusters o islands quindi si parla delle GPC islands sono normalmente localizzati in tutte quelle regioni del DNA che servono a regolare poi l'espressione genica e normalmente perché poi ci sono variazioni anche al sistema servono una volta che il DNA viene metilato in quelle determinate tipo di regione abbiamo un decremento una riduzione dell'espressione genica alcuni si conosceva già da tempo che alcune regioni qualora metilate ok tale variazioni diciamo avessero una costanza durante l'invecchiamento chi è stato poi a determinare questo da un punto di vista sperimentale e a creare poi quello che è stato definito un vero e proprio orologio epigenetico è stato Horvart nel 2013 un tedesco naturalizzato un tedesco che può lavorare in realtà in California lui che cosa ha fatto lui ha creato un modello matematico ok all'interno del quale è andato a vedere la correlazione che c'è tra la metallazione dei GPC sites e l'età anagrafica ok di un individuo e ha creato un orologio epigenetico e funzionava praticamente innanzitutto questo orologio epigenetico poi il DNA può essere preso da tessuti da vari tessuti del nostro corpo a tranne lo sperma ha una variazione cioè diciamo ha un errore di mediamente meno di 5 anni di vita ok e inoltre ha una correlazione tra l'età anagrafica e proprio l'età che viene identificata da questo orologio pari allo 0,96 diciamo che normalmente un biomarcatore dà una correlazione tra i 0,6 e i 0,7 fate conto che la lunghezza dei telomeri e la correlazione con l'età anagrafica di un individuo siamo intorno ai 0,47 se non ero 0,5 fate conto quindi estremamente elevata vabbè nel tempo poi cosa succede non abbiamo più solo l'orologio epigenetico di Harvard ma ne avremo molti sviluppati negli ultimi anni attualmente siamo all'incirca sugli 11 orologi e nonostante esistano vari tipi di modificazione del DNA la metilazione risulta essere oggigiorno tuttora il biomarcatore più preso in considerazione questo perché perché è estremamente stabile perché i campioni che vengono presi per analizzarli normalmente non sono invasivi e quindi può essere fatta tipo dal sangue stesso e il suo costo è affrontabile perché adesso con l'illumina che un'azienda offre anche a ricercatori stessi la possibilità di acquistare i chip gli arrays per fare tali analisi a costi che effettivamente possono essere affrontati ovviamente rimangono ancora degli aspetti da chiarire nell'utilizzo dell'epigenetica come un biomarcatore in particolar modo hanno veramente un valore diagnostico oppure no e poi lo sviluppo di questi orologi è ancora in corso quindi magari negli anni si verranno sviluppati degli altri con capacità ancora maggiori la loro validazione sperimentale e soprattutto la cosa secondo me interessante è capire in qualche modo se c'è una correlazione non solo con l'età anagrafica di una persona ma con il suo invecchiamento le variazioni non entro nei dettagli di questa slide perché altrimenti si va poi nel cellulare ma le alterazioni che avvengono nel DNA umano durante l'invecchiamento sono varie ed eventuali e siccome spesso sono cellule specifica o tessuto specifico è molto difficile di identificare una via che possa essere comune per tutti i tessuti o per tutte le cellule ok e ad esempio si pensa che ci sia una componente determinata dalla quantità di cellule staminali che ogni tessuto del nostro corpo ha che va in qualche modo a alterare l'analisi degli orologi epigenetici ovviamente ne abbiamo sentito parlare un sacco oggi è stato visto ed è stato dimostrato come vi siano fattori che accelerano e fattori che diminuiscono l'analisi dell'età vista da questi orologi epigenetici interessante mi sembrava indicare a voi come utilizzando due orologi quindi quello di Orward il più famoso ed un altro hanno fatto una meta-analisi e hanno visto che qualora questi orologi contemporaneamente davano un'età anagrafica di un gruppo di persone maggiore più o meno di 5 anni rispetto all'età stessa di quegli individui quelle persone avessero una probabilità di morte dall'8 al 15% più elevata quindi probabilmente sono anche in grado per ora diciamo in maniera presa ancora con le pinze se mi permettete il termine di valutare anche un eventuale invecchiamento grazie dell'attenzione e direi che sarà ancora di mangiare allora proseguiamo con una diretta dovrebbe esserci Caterina Origlia che aspetta eccola la vedo buongiorno ciao la dottoressa Origlia ci parlerà delle vitamine stress ossidattivo approccio diagnostico prego dottoressa buongiorno a tutti sono online comunque sono presente complimenti per l'organizzazione sarà in una prossima occasione che avremo modo anche di incontrarci direttamente spero la mia voce si percepisca bene dunque io parlo con un approccio clinico essendo un medico che si occupa di ricerca clinica e la problematica nella clinica e la complessità e la valutazione di tutte le variabili di sistemi flessibili viventi per cui nell'attività clinica ci si pone una condizione sicuramente diversa da chi è che segue ricerca di laboratorio anche io mi sono occupata di ricerca di laboratorio all'inizio della mia attività in particolare nell'ambito dei neurotrasmettitori ma la situazione nel vivente è completamente diversa ognuno di noi è un sistema complesso ma in realtà il primo sistema complesso in assoluto è l'osservatore quindi tutte le problematiche partono da qual è l'ottica dell'osservatore l'ottica ovviamente è quella dal punto di vista diagnostico di tutto ciò che è a disposizione della valutazione e ovviamente nella pratica clinica occorrono degli strumenti semplici rapidi sicuramente sensibili accurati specifici ma che allo stesso tempo possono darci in diretta con possibilmente anche una modalità meno invasiva possibile delle indicazioni che possano essere realmente poi adoperate alla clinica nella clinica che ovviamente possano anche essere confrontate con altre tipologie di parametri quando parliamo di vitamine sicuramente parliamo di molecole estremamente interessanti che dall'essere semplicemente le famose ammine vitani nutrienti essenziali con fattori enzimatici coenzimi sono attualmente considerate anche molecole di segnalazione modulanti epigenetici sicuramente ad azione protettiva nei confronti dei metalli pesanti ma anche ad azione antiossidante ma quando noi parliamo di molecole che noi assorbiamo tramite l'alimentazione per via orale tramite terapie e assunzione come appunto nel caso dei nutraceutici degli integratori alimentari per via orale abbiamo innanzitutto uno step fondamentale ma veramente dove arrivano e quanto arriva di queste vitamine e quale delle loro step di trasformazione diventa realmente biodisponibile il concetto di biodisponibilità e se quasi tutto invece agisce realmente proprio nel tubo digerente quindi i parametri sono talmente ampli che anche quello che può essere uno step fondamentale di diagnostica basato esclusivamente su una valutazione ematica urinaria salivare qualche volta si può anche sottoporre il paziente ad alcuni test funzionali ha comunque dei limiti cioè realmente ci sta dando soltanto delle indicazioni parcellari molte volte però non ci mette in condizione di essere realmente efficaci in quella che è la soluzione del problema del paziente lo stesso accade per quanto riguarda lo stress ossidativo che oggi come oggi possiamo considerare in realtà uno stress radicalico del quale abitualmente quando dosiamo l'emoglobina glicata abbiamo già delle indicazioni nell'aspetto di stress carbonilico di stress tiolico ogni volta che lavoriamo con i tioli come appunto la cisteina di stress microstativo ogni volta che noi affrontiamo tutta una problematica endoteliale quindi nella clinica a meno che non ci proviamo a richiedere al paziente come screening iniziale una valutazione di uno stress ossidativo basato su degli esami standard quale appunto la valutazione dello stato ossidativo come il virontest o degli antiossidanti come il BAP test comunque molto ovviamente relativi considerata la durata aleatoria vista il rapido metabolismo dei metaboliti che andiamo a considerare ci sono ovviamente dei limiti cioè la risposta non sempre ci dà uno strumento efficace e quindi come mettere relazione come mettere relazione questi due aspetti che oggi come oggi hanno anche diciamo un bilanciamento molto più ampio nel nostro approccio della medicina della complessità la rete è una rete ampia sempre più ampia ovviamente il limite di poter entrare nella conoscenza della rete è quello legato anche alla disponibilità che ha l'osservatore primo sistema complesso di poter entrare in questa interattività dove il sistema antiossidante rientra in segnalazioni nucleari rientra anche in tutto ciò che è l'interazione con anche xenobiotici anche con il microbiota con molecole di trasformazione con l'ossigenazione cellulare quindi soltanto per indicare alcuni degli aspetti in realtà sono infiniti quindi da dove noi partiamo qui ne abbiamo delle indicazioni sicuramente semplici che possono essere molto rapide anche con delle indagini seguibili nel proprio ambulatorio ma ovviamente sono parziali abbiamo anche delle metodiche indirette la stessa impedenzometria ci dà un'indicazione quando valutiamo per esempio il tessuto adiposto viscerale anche di quello che è uno stato di predisposizione ad uno stress radicalico ma esistono attualmente la ricerca ci pone anche la disponibilità di nuove modalità di strumentazioni come per esempio l'utilizzo dell'aspetto fotometria Raman nel vivente appunto un sistema della SOCHEC che permette di valutare tantissimi parametri poi esporò un caso clinico nel nel limito di tempo chiamiamo a disposizione quindi tra i vari parametri per esempio noi abbiamo la possibilità veramente nell'attimo proprio di frazione di secondo ponendo il manipolo che è appunto l'aspetto fotometro di quattro aree del palmo della mano sinistra che valutano appunto dal punto di vista quantitativo relativo di biodisponibilità tessutale tantissimi parametri tra i quali appunto compresi anche le vitamine e lo stress ossidativo in relazione anche con tantissimi altri ambiti per esempio quella detossinazione in alcune tradizioni per esempio tradizioni molto antiche come la traduzione ayurvedica sono anche un medico ayurvedico la diciamo la fene scienza è vista in termini completamente diversi da quella che è la nostra conoscenza occidentale e addirittura io ho avuto dei maestri che hanno lavorato in modo eccellente anche oltre cento anni con una un'attività biologica e anche una presenza biologica di moltissimi anni inferiore a quella che era l'età anagrafica e il puntare sulla detossinazione e sull'equilibrio sullo stile di vita lifestyle in tutti i sensi di ispirazione movimento alimentazione tenendo conto di che cosa di quello che è anche il proprio la propria storia la propria realtà che non è soltanto genetica è anche epigenetica che possiamo anche modulare epigenetica può essere modulata individuando alcuni parametri ma anche una storia antica la nostra memoria cellulare antica la nostra memoria del nostro microbiota il nostro imprinting fondamentale ci incalanano su certe vie che vanno tenute in considerazione quindi esistono queste metodiche molto più rapide abbiamo anche la disposizione ovviamente dello studio dei polimorbidi genetici ma indicano una predisposizione che potrebbe anche non manifestarsi indicano dei limiti che appunto hanno bisogno di entrare in rete con tant'altre condizioni quindi anche la stessa valutazione dello stato vitaminico quella quantitativa appunto attualmente è possibile su diversi parametri o anche quella funzionale ha anche essai dei limiti quindi ha bisogno di essere integrata quindi nell'attività clinica si crea un pannello diagnostico che ovviamente in base alla disponibilità del laboratorio è possibile andare a completare non soltanto su questi parametri abitualmente apprezzati ma anche con questo concetto che è quello della medicina della complessità quindi con un concetto totale di interazione che è quella dell'odierna interattomica che considera l'organismo un unico organismo un'unica entità estremamente complessa e certamente per nostra semplicità noi insaminiamo delle parti ma queste parti devono essere unite altrimenti come capita spesso il paziente si sposterà da collega a collega per cercare delle soluzioni invece una visione globale interattiva spesso diventa veramente quella che è la via vincente quindi così come anche l'esposoma che è fondamentale ci sono anche per esempio delle valutazioni da punto di vista esposomico di quella che è la biodisponibilità anche vitaminica ma anche lo stesso interazione ambientale metalli pesanti xenobiotici come diossine e così via su quello che è lo stress ossidativo stile di vita sistema nervoso centrale umore quindi la situazione è molto complessa ma deve tenere in conto di tutti questi parametri così come dell'epigenetica e l'epigenoma quindi esistono anche altri test che valutano la biodisponibilità cellulare per esempio il mineralogramma sul capello ma noi abbiamo appunto questa questa novità la quale io ho già una buona casistica già sperimentata ovviamente appunto questa valutazione io adesso sostituisco la diapositiva per entrare nella un parametro diciamo più utile e vi espongo adesso un caso si vede spero che si veda dunque in questa in questa situazione in questo caso per esempio questa nell'interpretazione appunto dell'oligo check che quindi è un'indagine che utilizza l'aspetto fotometria Raman questo parametro diciamo molto complesso quindi in realtà è un report caratterizzato da tantissimi aspetti richiede oltre ai dati rilevati direttamente dall'aspetto fotometro l'età l'altezza il peso quindi viene calcolato il DMI anche il gruppo San Diego sappiamo tutti i dati recenti su quelle che sono ulteriori informazioni che ci giungono dallo studio di quelle che sono appunto altri parametri glicoproteici legati anche al discorso delle lectine e quindi di interazione esistono per esempio già degli approcci dietetici su cibi con basso contenuto di lectine per poter ridurre lo stress considerativo quindi i parametri sono infiniti in questo caso questo soggetto di gruppo zero ovviamente c'è una condizione di obesità con anche un elevato contenuto di grassa addominale vedete il report finale che immediato giunge veramente dopo frazioni di minuti quindi c'è riportata la tabella il bilancio dei sali minerali quelli centrali lungo la linea sono nella diciamo nella media quelli che sono alla nostra sinistra sono al di sotto quelli che sono alla nostra destra sono al di sopra quindi per esempio esaminare uno iodio che è riportato al di sotto ci pone dei dubbi dal punto di vista clinico cosa vuol dire non c'è iodio o non è utilizzato lo iodio o c'è qualcosa che crea interferenza per esempio se andiamo a rilevare poi la condizione del selenio vediamo che il selenio è un po' di più perché è un po' di più accumula selenio assume selenio o non utilizza selenio questo è una delle problematiche tiroidee può essere uno spessore di uno stress ossidativo a livello tiroideo quindi l'esame l'oligocheck mi ha dato l'indicazione di poter procedere la ricerca sia con la visita sia con dei test diagnostici di una eventuale patologia tiroidea e in effetti l'indagine successiva sia ecografica sia degli anticorpi per la tiroide ormonale ha confermato una tiroidite autoimmune con ancora una condizione normofunzionale ormonale ancora c'è una sono riportati dei rapporti tra alcuni minerali fondamentali perché c'erano delle indicazioni sul livello di metabolismo e anche quindi di accelerazione quindi anche ci dà un'indicazione se il paziente è un iperossidatore o un ipossidatore e ancora indicazioni sul bilancio dei metalli pesanti fondamentale perché ovviamente anche le vitamine possono richiedere ed essere possono essere richieste quindi con maggior impegno laddove c'è un carico maggiore di metalli pesanti e qui vediamo le vitamine il problema della vitamina D quante volte noi somministriamo degli ottimi preparati e non c'è risposta cioè il parametro rimane stato i motivi possono essere tantissimi ma a volte capita anche di osservare il parametro ematico è buono ma la biodisponibilità è minima perché che cosa stiamo in realtà noi dosando sul prelievo ematico e cosa sta accadendo a livello funzionale nei tessuti ovviamente nella clinica interessa non soltanto raggiungere dei parametri circolanti ematici urinari salivari ottimali ma anche che realmente questi parametri siano in ottime condizioni anche a livello tessutale quindi anche la biodisponibilità e molte volte per esempio una condizione di acidosi tessutale correlata spettamente con lo stress ossidativo ed è la stessa causa dello stress ossidativo può ovviamente attivare tutto questo sistema e può anche determinare una riduzione della biodisponibilità reale della vitamina D così come anche un sovraccarico del tessuto adiposo viscerale o comunque del tessuto adiposo in toto può anche determinare una riduzione di quello che è il livello circolante della vitamina D quindi parametri questi parametri vengono poi elaborati da un circuito elettronico e quindi ci dà una valutazione dello stress ossidativo come possiamo osservare ma anche altri aspetti che possono avere questa indicazione clinica importante per esempio la condizione di invecchiamento della pelle la difficoltà o meno al dimagrimento quindi la condizione o meno di sovrappeso condizione di capelli unghie articolazioni lo stato di intossicazione che è fondamentale ripeto nelle tradizioni antiche il primo step di tutto ciò che è la funzione senolitica è la detossinazione ma profonda cellulare attualmente noi parliamo un po' poco di detossinazione pensiamo che sia superficiale invece diventa la chiave fondamentale i radicali liberi sono tossine e quindi attivano non soltanto un potenziamento dello stesso assidativo ma tutta una serie di segnalazioni e quindi anche di rispettivi in altri ambiti il livello di digestione fondamentale e tutto ciò che noi assumiamo per via orale ha il confronto con con l'apparato digerente e quanto realmente poi arriva in circolo quanto ancora di più arriva sui tessuti quindi quanto l'apparato digerente diventa fondamentale per assicurare la biodisponibilità cellulare e quindi anche le condizioni legate a salute mentale e l'equilibrio generale e il report dell'oligo check si completa con diciamo con una sintesi completa della condizione del paziente quindi un bilancio completo fuori scale come vedete sui punti squilibrati che può essere confrontato ovviamente successivamente diventa ovviamente molto molto rapido molto utile e poi può essere anche perché volesse avere anche dei riferimenti può anche avere un supporto con un'altra metodica che si affianca nell'igodotter che dà un'interpretazione sintetica discorsiva dei parametri che abbiamo individuato quindi diventa uno strumento ripeto nell'attività clinica nella ricerca clinica interessantissimo perché ci permette di compiere quei passaggi in questa rete flessibile amplissima di grande utilità e per me è proprio uno strumento di ricerca cioè mi ha dato spesso anche diversi casi clinici degli input che poi ovviamente ho cercato di comprendere tramite anche altra diagnostica sicuramente interessante credo che il mio tempo sia completato perché altrimenti ci sarebbero anche altri casi clinici ringrazio tutti e spero anche in altre occasioni grazie grazie dottoressa bene proseguiamo e chiudiamo dovrebbe esserci la mia relazione finale eccola qua allora i closing remarks sostanzialmente quello che abbiamo visto in questa sessione che dobbiamo portare a casa è che c'è una differenza netta tra la nostra età cronologica e la nostra età biologica che naturalmente è esperienza di tutti vedere persone che hanno un'età cronologica e che ne dimostrano un'altra visivamente diciamo fotograficamente e che l'obiettivo di tante delle cose che abbiamo visto stamattina soprattutto attraverso la valutazione epigenetica e di quei meccanismi di metilazione che abbiamo visti è saper documentare in maniera oggettiva qual è la nostra età biologica oltre che l'età cronologica saperla documentare significa parametrare significa dare evidenza agli studi che facciamo significa anche potersi permettere di fare studi diciamo scientifici su molti aspetti che fino ad adesso non avevano una grande rilevanza ecco proprio Orvat ci ha dato l'evidenza con lo studio di questo orologio che è molto correlato in maniera significativa come diceva la dottoressa Cipolata alla nostra età cronologica e alla variazione in senso di accelerazione o di decelerazione della nostra età epigenetica ovvero della nostra età biologica quanto più è accelerata la nostra età biologica e quanto più è accelerata l'età biologica e l'invecchiamento dei nostri tessuti tanto più noi avremo caratteristiche a rischio per ammalarsi di malattie importanti come appunto il cancro e le malattie cardiovascolari questo è importante e alcuni studi scientifici anche sull'uomo sono stati già fatti correlando ad esempio l'età epigenetica e l'utilizzo di alcuni prodotti farmaci eccetera uno per tutti è stato l'utilizzo del resveratrolo in una comunità di una ventina di persone il deidro e piandrosterone e il growth hormone usati per un anno hanno avuto una riduzione dell'età biologica di 2,5 anni questo quindi ci permette di calcolarla sì dal punto di vista globale che anche dal punto di vista tessutale questa è una grande informazione che noi possiamo avere la letteratura al riguardo è stata citata prima ed è estremamente ampia ovviamente abbiamo visto che esistono anche degli altri biomarcatori biomarcatori multifattoriali a livello del microbiome intestinale o marcatori come marcatori di stress ossidativo quello che ha descritto la dottoressa Origlia eccetera il problema fondamentale che oggi per fortuna è meno ed è una possibilità più un problema è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale abbiamo dati di confronto di una popolazione immensa che è a disposizione in tempo reale a disposizione di noi medici per capire ed identificare quelli che sono gli aspetti che sono correlati all'invecchiamento utilizzando molti di questi parametri a disposizione ciò vuol dire che noi dobbiamo inserire nella nostra pratica medica sicuramente aspetti di confronto e controllo in tempo reale alle nostre applicazioni sia di tipo digitale che di tipo molecolare questo vuol dire che dobbiamo dotarci di condizioni cliniche che siano assolutamente quelle della storia clinica di valutare qual è l'età biologica comportamentale dei nostri pazienti l'età visiva l'aspetto esterno anche questo è possibile farlo facilmente l'analisi più profonda di quello che è l'invecchiamento molecolare tessutale ad esempio attraverso i test che abbiamo descritto prima questo ci porta ad affare un processo di miglioramento tra quelli che abbiamo visto stamattina essere i livelli base attraverso i quali già sappiamo dalla letteratura che possiamo avere molto incremento nella vita media ovvero questi livelli di trattamento di terapia possono portarci ad avere un allungamento dell'età cronologica oltre i 64 anni fino a oltre i 90 come abbiamo detto la restrizione calorica con un livello di nutrizione ottimale piuttosto che lo stop del fumo ci fa guadagnare 12 anni di vita l'esercizio fisico 8 anni di vita la dieta o la restrizione calorica quello che vedete comunque qui ma abbiamo anche un livello di evidenza per quanto riguarda l'age reduction ovvero il fatto di ridurre la nostra età biologica al punto tale di avere tutti più o meno un livello di salute biologica entro i 75 anni non diciamo modificando quella che è l'età cronologica questo se entriamo in questo livello dobbiamo applicare altri sistemi di attività conosciute e note e l'ultimo livello diciamo il livello 3 è quello che può permettere di essere in salute anche oltre i 75 anni aumentando la nostra età cronologica è quello cellulare quello genetico che sono poi alla base di tantissimi studi che adesso sono in corso e di tanti prodotti farmaci già a disposizione del mercato o in corso di release nel mercato mondiale e quindi diciamo farmaci sistemi che aiutano a ricostruire le nostre cellule perse sistemi che aiutano ad eliminare le cellule in eccesso a proteggere i componenti cellulari a rimuovere la spazzatura cellulare eccetera 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 questa ultima parte questo ultimo livello può portare in letteratura ad un 5 10% di possibilità di essere in salute oltre i 100 anni con questo chiudiamo la sessione del mattino vi invito tutti ad uscire fuori sul parco dove ci sarà qualcosa per mangiare in maniera sana grazie grazie